Ciao, buongiorno a tutte e a tutti, chi è in presenza e chi ci sta seguendo in streaming, io sono Paolo Marasca, sono l'assessore alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Ancona, vi faccio quello che normalmente viene definito un saluto istituzionale all'inizio della mattinata, sarà molto breve, ci tenevo però ad esserci per ringraziare tantissimo le docenti e i docenti, i dirigenti scolastici e naturalmente le ragazze e i ragazzi, le studentesse e gli studenti che hanno creduto molto in questo progetto, un progetto che è nato e è stato pensato in un periodo complicato, poi ha avuto naturalmente una serie di stop, di rilancio e via dicendo, ma sta coinvolgendo tantissime ragazze e ragazzi e è nato e sta crescendo proprio per permettere di dare alle ragazze e ragazze, alle studentesse e agli studenti questo grande spazio di possibilità, questo grande vuoto che poi dopo sarà vostro compito riempire. Questo è un po' il gioco che ci siamo messi a fare con magazzini filosofici, oltre naturalmente alle scuole, agli istituti scolastici, devo ringraziare di cuore tutte le persone che si stanno adoperando per questo progetto e che si sono adoperate negli ultimi mesi, che non sono stati semplicissimi né per voi né naturalmente per chi lavora dietro le quinte, sono tantissimi, io cito solo le realtà che sono principali nell'organizzazione dell'evento, quindi Yo-Yo Opportunity è il progetto principale dentro cui sostanzialmente vivono i magazzini filosofici, c'è qui Costanza Schiaroli della cooperativa Polo 9 che è la realtà che è capofila di questo progetto finanziato dalla Fondazione Cari Verona. Accanto a Yo-Yo Opportunity il Festival CUM che alcuni di voi conoscono, che è il festival diretto da Massimo Recalcati che si svolge alla Mole, l'associazione Jonas Ancona che è l'associazione fondata da Massimo Recalcati, è la sede di Ancona dell'associazione fondata da Massimo Recalcati che si occupa di tutte queste attività sul territorio e il Fondo Mole Van Vitelliana che è un po' il padrone di casa dal punto di vista organizzativo e logistico. Devo ringraziare le tantissime persone che stanno dietro questi simboli perché non è stato semplicissimo, oggi siamo un po' in presenza e un po' da remoto, più avanti saremo sicuramente più in presenza, l'importante è andare avanti e cercare di costruirci tutte queste possibilità perché ce ne sono tantissime. Per farlo abbiamo invitato una serie di ospiti che trattano dei temi che a volte vengono pensati in maniera un po' schematica, un po' tradizionale e che invece li trattano in maniera diversa. Tra questi il filosofo Simone Ragazzoni a cui adesso passo la parola e che vi farà quella che normalmente viene definita una lezione ma mi piace più definirlo incontro conoscendo il modo di dialogare con le persone di Simone Ragazzoni e quindi che farà con voi un incontro che spero vi darà sia da pensare sia anche da reagire e da discutere in questa mattinata. Grazie all'assessore Paolo Marasca, grazie a voi per essere qui, grazie ai docenti che hanno aderito a questo progetto, a questa sfida, perché è anche un po' una sfida oggi parlare qui con voi di filosofia, grazie a Your Opportunity che ha creato il contenitore in cui oggi noi possiamo incontrarci. Abbiamo quasi due ore per parlare di una cosa che per voi sembra estranea, straniera, di cui in fondo magari non vi importa neanche molto perché non la conoscete. Al limite conoscete la parola, filosofia, però non vi dice nulla. Vi direbbe di più un video su TikTok come minimo, o un film, o una canzone, o uno spettacolo televisivo che vi interessa, ma della filosofia in fondo no. Perché quindi siamo qui questa mattina? Perché saltiamo un po' di scuola e stiamo a sentire uno che per due ore ci parla di filosofia e poi la cosa è passata. Io vorrei provare con voi oggi qui davvero a fare un esperimento e voi mi servite. Mi servite perché? Perché io di solito sono abituato a fare lezioni di filosofia, per chi sa la filosofia diamo tante cose per scontato, a volte troppe cose per scontato. Se io oggi devo parlare a voi, devo fare un discorso diverso. Devo un po' ritornare a quelle ragioni che mi hanno spinto, quando avevo la vostra età a 16 anni, a scegliere di fare filosofia. Io l'ho scelto a 16 anni, non in biblioteca, non in accademia. Ero in vacanza all'isola d'Erba, in spiaggia, stavo imparando, perché mi piaceva fare windsurf, e ho iniziato a leggere i dialoghi di Platone, senza capirci quasi niente. La mia passione inizia da lì. E quando ieri pensavo cosa gli racconto domani, com'è che parlo con loro di filosofia, volevo proprio ricominciare da quello che è stato per me l'origine, ma che lo è stata anche proprio in origine per il primo filosofo, Platone. La filosofia nasce quando? Quando avete una crisi, voi, personale. Quando vi ponete, e capita a tutti nella vita, almeno una volta, vi sarà magari già capitato, vi capiterà, di chiedervi, ma chi sono io? Che tipo di donno o di uomo voglio diventare nella vita? Mi sta bene come gli altri dicono che io sono? I miei genitori, i miei amici, i miei professori? Oppure sento che c'è qualcosa in me di diverso, ma io neanche bene lo capisco, che talvolta mi dà disagio, talvolta mi fa stare bene, ma sono io che parlo a me stesso, a me stesso? Ecco, cos'è quella cosa lì? La filosofia inizia proprio da quelle domande lì. Chi voglio essere? Che tipo di donno di uomo voglio essere nella vita? Cosa voglio diventare? Cosa mi piace davvero? Poi ci sono tante cose che mi piacciono, oppure che mi faccio piacere perché piacciono agli altri, ma io cosa voglio? Ecco, la filosofia inizia a partire da queste domande qui, e quindi a partire da queste domande che vi vorrei un po' raccontare la storia di come nasce e di cosa può, in qualche modo, in che modo può esserci utile anche quando non la facciamo, anche quando ci interessa tutt'altro, anche quando da oggi in poi voi non incontrerete più questa parola magari nella vostra vita, ma quelle domande lì le incontrerete e ci saranno momenti di crisi a partire da quelle domande lì. Ecco, quando voi ve le farete quelle domande, quando proverete a dare una risposta, anche se vi siete dimenticato della parola filosofia, voi state facendo filosofia. E questa è la cosa che mi ha appassionato fin da subito, di questa che sembra una materia di studio, è anche una materia di studio, ma prima è una cosa più importante. Lo diceva un pensatore italiano, che è finito morto in carcere, si chiamava Gramsci, tutti sono filosofi, nella misura in cui tutti, almeno una volta nella vita, si fanno quelle domande lì, attraversano una crisi esistenziale, non sanno che diavolo fare di se stessi. Allora si pongono quelle domande, provano a rispondere e lì fanno filosofia. Quindi che cos'è la filosofia? E adesso proviamo un po' a ripercorrere, in modo un po' particolare, che a qualche filosofo accademico potrebbe far rizzare i capelli in testa, la filosofia. Provo a proiettarvi un'immagine, se potete darmi sullo schermo l'immagine che ho sul piccolo schermo io. Questo è il signor Platone, un vecchio, vedrete, non è proprio con un taglio all'ultima moda. Siamo nel IV secolo avanti Cristo, ad Atene. Questa è l'immagine che di solito si dà della filosofia che è abbastanza respingente. Perché vi identificate con questo qui? No, o almeno lo spero, ecco, ma neanche io mi identifico con questa immagine. E a un certo punto io che mi sono appassionato di questo signore qui che si chiama Platone, poi vedremo perché questo nome, mi sono chiesto chi fosse, chi era, ma era davvero così? Ma questa è l'immagine che ci dà un pittore che si chiama Raffaello, c'è un bellissimo affresco che si chiama la scuola di Atene, Raffaello dipinge così Platone. In realtà questo modello qui è Leonardo da Vinci, non è Platone. Ci dà la figura perché? Perché Leonardo da Vinci era il grande intellettuale rinascimentale, era l'uomo che dipingeva, scriveva, era scienziato, era artista, quindi rappresentava la summa del sapere. Quindi Platone, che è il padre del sapere occidentale della filosofia, sarà stato una specie di Leonardo da Vinci in nuce. In realtà se uno va a cercare ci sono delle statue un po' diverse, qui secondo me è già meglio. Se avesse avuto Instagram gli avrei messo questa, non l'altra su Instagram di Platone. Perché? Perché qui ha una fascia in testa e questa è una fascia da lottatore, è una tenia, veniva messa chi vinceva i giochi olimpici e già qui l'immagine cambia. Platone, sì, è un filosofo, ma faceva sport e già questo ci dice qualche cosa di più di quest'uomo. E tuttavia siamo ancora in un'immagine un po' polverosa, datata, questa è molto bella, è un bellissimo busto. Ora però io per cominciare a chiedermi che cos'è la filosofia partirò da un'altra immagine, che adesso sicuramente, magari qualcuno, voi sapete chi sono questi due. Chi è che non sa chi, nessuno dei due sa chi sono? C'è qualcuno che dice io non so chi sono. Mi alzate la mano? Uno, uno, due, tre. Allora quattro di voi non sanno chi sono. Chi sa chi sono? Alzate, alzate. Chi è che mi dice chi sono agli altri? Cominciamo a fare dialogo filosofico. La ragazza non la conosce però, lui fa sport, fa una specie di box che si chiama MMA. Qualcuno sa chi è la ragazza? Giulia Stabile. Chi è Giulia Stabile? Ha vinto amici l'anno scorso e che cosa fa? Ballerina. Allora, una è una ballerina, cosa avrà a che fare con Platone? Vedremo. Chi ha vinto amici? Un talent. L'altro si chiama Alessio Sacara. Ha fatto il pugile, poi è diventato lottatore di una forma di combattimento che si chiama MMA e fa una forma di lotta che ricorda le forme di lotta antica. Ora, che cosa hanno a che fare questi due con Platone? Prova a ragionare con voi, perché in filosofia non c'è uno che fa un discorso e gli altri sentono e prendono appunti. Bisogna interagire. Quando ho fatto filosofia ai bambini di seconda primaria, gli ho spiegato, dicono che è il gioco della domanda e della risposta. Però bisogna fare delle domande, provare a rispondere, fare un sacco di errori, ripartire da capo. È un lavoro di questo tipo. Ora, quello che vi propongo è di trovare che cosa hanno questi due in comune con Platone per provare a parlare della filosofia. Questi due fanno una danza, uno fa sport. Che cosa hanno in comune uno che danza e uno che fa sport? Devono fare qualcosa quotidianamente, più o meno. Allenamento. Questi due si allenano. Perché si allenano? Per raggiungere? Sì, sì, non abbiate paura, i filosofi non sono timidi. Per raggiungere dei risultati. Hanno un obiettivo, un risultato. Per raggiungere quel risultato devono fare una cosa che si chiama allenamento. Vedremo che cos'è. Ora, il signore di cui vi parlavo prima, lui, versione Instagram lui, voleva fare poeta, tragediografo, scrive delle tragedie. Era figlio di una famiglia bene atenese. Siamo più o meno nel quinto quarto secolo avanti Cristo. Lui nasce nel 427 avanti Cristo ad Atene, quindi figlio di una famiglia bene, poteva fare politica oppure darsi all'arte. Venivano rappresentate delle tragedie, erano l'arte dell'epoca, erano il cinema dell'epoca, erano il Netflix dell'epoca e lui vuol fare quello. Inizia a scrivere tragedie, poi accade qualche cosa. In quella città, Atene, c'era una persona più anziana di lui che si aggirava per la città facendo un po' quello che stiamo facendo stamattina. Importunava i giovani con delle domande. Uso la parola importunare nel termine più specifico, cioè dava fastidio. Non era compiacente verso i giovani, andava, oh ma come che bello essere giovani, ma quali sono i vostri interessi? No, domande. Era nella piazza di Atene, lui si chiamava Socrate, si aggirava e faceva delle domande, chiedendo sai che cos'è l'uomo? Sai che cos'è la giustizia? Che cos'è per te il bene? Eccetera. Domande scomode perché? Perché implicano che uno debba riflettere sulle cose su cui normalmente non riflette. Non metto di riflettere che cos'è il bene, che cos'è la giustizia, a meno che io non subisca una cosa che penso sia ingiusta. E allora, ma perché mi è stato fatto questo? Perché mi fanno fare questo? Non è giusto questa cosa che sto facendo? Allora lì già sto riflettendo. Socrate si aggira per quella città che secondo lui ha dei limiti, nella formazione, nell'attenzione ai giovani, nella gestione della politica e fa queste domande scomode. Platone si innamora di questo maestro, si innamora nel senso filosofico del termine, cioè lo ammira, sente che lì può trovare qualcosa che l'educazione che gli è stata data dalla scuola, dalla città, dalla famiglia non gli ha dato. Quelle domande scomode, non risposte, quelle domande scomode hanno messi in moto nell'animo di questo giovane qualche cosa. Prende le sue tragedie, le brucia e decide di seguire questo maestro. Questo maestro ha una modalità molto particolare di insegnare, non dà una qualche verità, non gli dice guarda io adesso ti dico come funzionano le cose, come funziona il mondo, come ti devi comportare per stare meglio, per essere migliore, più giusto. Io con te voglio rimettere in discussione tante cose, provare a cambiare il tuo modo di essere, provare a farti ascoltare quella voce interiore che parla e che normalmente non ascoltiamo e che ti dice ciò che sei. Socrate sosteneva di avere una voce interiore, un demone, un daimon, come lo chiamano i greci, demone per noi è un'accezione negativa, per Socrate assolutamente no, era una voce interiore che in certi momenti diceva no, questo no. È bella questa cosa del no, non è che gli dicesse cosa fare eccetera, ma no, questo no. Il no è per noi la possibilità di prendere le distanze di qualche cosa, da qualche cosa, di riservarci uno spazio nostro di libertà. Su questo io dico no, rispetto alla cosa che mi viene chiesta, una domanda che mi viene posta dall'esterno. È evidente che il no gratuito non ha significato, ma un no ben motivato, un no rispetto a richieste che vengono dall'esterno, che non sentiamo nostre, che non sentiamo di condividere, è il ritagliarsi di uno spazio di libertà in cui noi proviamo a essere noi stessi. Ecco quel no di Socrate. Ed è questo che affascina Platone. Qualcuno che ha il coraggio, in mezzo alla città dove tutti sono molto omologati, sei figlio di una famiglia bene e quindi finirai a fare politica, oppure potrai fare l'artista, oppure potrai fare tutte queste cose che puoi scegliere, ma sono quello che ti offre la città. Non c'è altro, se vuoi fare dell'altro non esiste, toglitelo dalla testa, sono follie, non fare questa cosa è ingiusta, è sbagliata, eccetera. Platone si innamora di un uomo che dice c'è possibilità di fare dell'altro, che cosa? È una cosa che non si era mai vista. Questa cosa che cominciano, non la chiamano ancora così, la chiamerà Platone, ma è la filosofia. C'è la possibilità di essere diversi rispetto a quello che la società in quel momento vi chiede di essere. Attenzione, questo non significa fate quello che volete, ma prendete la responsabilità su di voi di essere uomini diversi, come? Più giusti. Questa è la risposta che dà Socrate. Che cos'è un uomo giusto? Altra domanda che buone Socrate. Giusto verso se stesso, verso quello che sente, quello che prova, giusto verso gli altri, verso le aspirazioni degli altri, verso il bisogno di riconoscimento che hanno gli altri. E quindi si crea una comunità intorno a lui, un gruppo di giovani, perché poi tali sono. Atene, la città, che vede in questa piccola scuola di libertà, perché altro non è la filosofia, piccoli esercizi di libertà, piccoli allenamenti di libertà quotidiana. Mi alleno a riservarmi il mio spazio di libertà, mi alleno a sentire quello che voglio veramente, mi alleno a costruire la persona che voglio essere. La città non è contenta, perché la città in termini di polis è la costruzione del cittadino rispetto a tutta una serie di norme. Cosa si studia in quella città? Beh, nella formazione dei giovani è ogni presente la Lilia dell'Odissea, cioè Omero come poeta che forma i valori dei giovani. Platone contesterà molto questa cosa. Sì, Omero è importante, ma noi vogliamo delle altre cose, vogliamo altre fonti per formarci. Platone, quando diventerà più grande, comincia a comprarsi dei libri dei presocratici, un po' come c'è la scuola che mi dà delle cose, sì, ma io cerco anche dell'altro. Voi leggete, studiate e ascoltate solo quello che viene proposto a scuola? No. C'è anche un altro spazio che vi riservate per dei vostri interessi. Ciascuno e ciascuno di voi ha questi interessi, li ha già formati, li approfondirà. Sono una parte di interessi che scoprite voi da soli. Talvolta non piacciono ai vostri genitori, talvolta non piacciono alla scuola, talvolta è giusto che alla scuola i genitori vi dicono no, questa roba non ci piace, eccetera. Perché? Perché parte della formazione del vostro allenamento e della vostra costruzione è rispetto a un dissenso motivato e doveroso da parte di chi vi forma, è proviamo a sostenere la mia posizione, proviamo ad andare a fondo su questa cosa che mi piace, proviamo a vedere se riesco a farla riconoscere anche laddove mi viene detto no. Ed è parte fondamentale della formazione del vostro allenamento. Talvolta capitolerete, Platone capitola su certe cose, talvolta invece quella cosa si approfondirà, diventerà forte, eccetera, vi farà crescere. La filosofia concepisce questo, la formazione è, adesso arriviamo a questi due, dialogo sicuramente, ma a volte anche scontro, lotta, combattimento. Tutto questo ha delle regole, non viene fatto senza regole, però è un tentativo di dire bene, trovate in voi la forza per sostenere la vostra posizione. In un dialogo a due, a tre, a quattro, la vostra posizione deve essere sostenuta con che cosa? Con argomenti, con l'arte, quella che gli antichi chiamavano la retorica, che è una certa forza persuasiva del discorso, che usate anche voi, la usate in tutti i modi, anche chi in questo momento magari gli occhi bassi guarda quando scrivete su TikTok, su Instagram, usate il linguaggio, cercate di farvi ascoltare, cercate di farvi vedere in un certo modo e questo è un lavoro che fate su voi stessi. Quindi Platone incontra Socrate, gli cambia la vita, la città non apprezza, Socrate viene messo a morte. È un processo che viene fatto molto lungo ad Atene, Socrate si difenderà, Platone scriverà di questo processo, ma Socrate viene ucciso. Ha l'opportunità di fuggire, ma in prigione, ce lo racconterà Platone, nell'ultimo giorno di vita, dice no io non fugo, io combatto Atene, io penso che Atene sia ingiusta in tutto questo, io ho cercato un nuovo modo di concepire il rapporto tra le persone, lo spazio pubblico, il sapere e tuttavia in questo momento in cui vengo condannato accetto, metterai in discussione tutto quello che ho fatto se fuggissi come una persona senza coraggio. Queste sono le mie posizioni, lo esposte pubblicamente, la città mi metterà a morte, benissimo, io pagherò per questo. Proprio il fatto che lui si fa mettere a morte lo rende ancora più forte, rende il suo messaggio ancora più forte, perché? Perché il suo no non si è piegato rispetto all'esercizio di un potere che gli aveva dato anche l'opportunità di uscire, di andare via ad Atene. Lui dice no, rimane fermo su quel punto, in una maniera assolutamente pacifica, quasi debole dal punto di vista dell'apparenza esterna, lui non va allo scontro con Atene, parla, sostiene al processo la propria posizione, accetta e tutto questo cosa produce? Tutta una storia di cui parliamo ancora noi oggi. Quell'atto lì poteva rimanere un atto cancellato dalla memoria dell'Occidente in mezzo a tutte le informazioni che abbiamo e tuttavia quella storia ancora ce la raccontiamo di più. Quella storia è talmente potente che ha informato il vostro modo di pensare e di parlare. Voi tutti usate una parola, e la usate molto spesso, che ha inventato quel signore lì in questo spazio che ora vi dirò, la parola idee, una delle parole più belle. Nessuno di voi amerebbe essere una persona senza idee. Avere delle idee vuol dire avere dei pensieri che abbiamo formato, abbiamo cesellato, abbiamo messo lì, hanno un peso su quello che facciamo, sul modo in cui ci rapportiamo agli altri. La parola idea non esisteva fino a quando Platone non la cogna. Viene da un verbo greco che significa vedere, aver visto, eccetera, e adesso vedremo poi cosa sono le idee. Se Socrate non avesse detto quel no, se Socrate non avesse resistito sulla sua posizione, che era una posizione di giustizia rispetto a una città che la vedeva diversamente, non è neanche detto che noi oggi magari avremo la parola idea, ne avremo un'altra. Forse avremo un altro modo di pensare, ma questa roba qui, che accade tanto tempo fa, incide sul nostro nuovo modo di pensare. La cultura occidentale, quella di cui facciamo parte, che attenzione non è solamente occidentale perché all'origine dietro tutto questo ci sono influssi che vengono dal Medio Oriente, dall'Oriente, non lo possiamo affrontare, ma tenete sempre presente che una cultura all'origine è un insieme di tantissime cose, quindi noi siamo, ogni cultura è debitrice di altre. Ebbene, forma il nostro modo di pensare, forma il nostro modo di istruirci, i testi su cui lavoriamo, su cui pensiamo, eccetera. Bene, ma torniamo a Platone. Muore Socrate, che cosa fare? Crisi di Platone. Platone va in crisi. E quando si va in crisi dove si torna? Torna nel luogo della sua giovinezza, questo qui. Sapete cos'è questa? è una palestra. In greco si chiamava ginnasio, ancora oggi nei licei c'è il ginnasio, proprio perché abbiamo mantenuto nella nostra storia un debito enorme con questi spazi antichi di formazione. Queste parti dove vedete i quadratini neri piccoli è il colonnato, la parte interna è scoperta, quel quadrato al centro è lo spazio con la sabbia, la scamma dove si lottava. Nella parte in alto ci sono gli spogliatoi, ci sono le vasche dove ci si poteva ripulire dall'olio e dalla terra e c'era anche l'alloggio di Platone. Platone decide di aprire una palestra. Questo è quello che fa dopo la morte di Socrate. Anche in università non sempre ve la raccontano così, dicono no, ma quella era l'accademia. Poi se andate a chiedere ai professori universitari di filosofia antica, io l'ho chiesto per alcuni mesi ad amici, visto che stavo scrivendo un libro proprio su questa palestra, ma com'era materialmente questa accademia di Platone, ma era una specie di biblioteca, non era una biblioteca. I libri arrivano ma più tardi. Era la palestra dove il giovane Platone si allenava, in che cosa? Nella lotta. Una lotta che in greco si chiama pancrazio. Alessio Sacara, che avete visto prima insieme a Giulia Stasi, fa una forma di lotta che è la ripresa letterale dell'antico pancrazio greco. È una sorta di lotta platonica contemporanea. Non a caso Sacara, che è tutto tatuato, ha anche un tatuaggio di un filosofo, Marco Aurelio, sul proprio corpo. Perché Marco Aurelio era un altro lottatore. Anche qui i filosofi ci vengono presentati molto spesso come persone della parola, del discorso. In realtà nell'antichità facevano questa cosa, allenamento soprattutto nella lotta. E così torniamo alla nostra parola di prima. Lui fonda la sua scuola in una palestra. Rispetto ad altri spazi che c'erano ad Atene è aperta a tutti uomini e donne. Guardate che nell'antichità questo non era scontato. Lo spazio pubblico, lo spazio politico, lo spazio della discussione, era uno spazio maschile. Le donne, le giovani donne, erano relegate alla dimensione dell'o-economia, cioè della gestione della casa. Platone apre questo spazio alle giovani donne che potevano lottare insieme agli uomini. C'era una sola condizione che veniva posta perché si potesse accedere a questo luogo di formazione, che era una palestra, un luogo di dialogo. Secondo quando è stato tramandato e che si ripete spesso, fuori c'era scritto qui non può entrare nessuno che non conosca matematica e geometria. In realtà se andiamo a fare un esame filologico di tutta la storia di questa palestra non è vero. Questo è stato aggiunto dopo. È stato detto dopo quando Platone veniva presentato come quel signore con la barba, quei capelli lunghi, posato, che non aveva nulla a che fare con un fisico prestante da lottatore. In realtà nei tempi della formazione di Platone l'unica condizione era se siete o meno disposti a faticare, a fare fatica. La fatica per Platone è fondamentale, si connette alla questione dell'allenamento, a tal punto che, e adesso andiamo a provare la prima, a dare la prima definizione, ciò che tiene insieme Alessio Sacara, Platone e Giulia Stabile è il fatto che si allenano perché la filosofia all'inizio viene definita ascesis in greco, vuol dire allenamento. La filosofia è un modo per allenare se stessi nell'unità di mente e corpo. Benissimo allenare la mente, allenare la mente al dialogo, alla domanda pronta, alla capacità di elaborare risposte, alla capacità di elaborare un pensiero personale e originale a partire da quello che ci viene dato. Però tutto questo non può essere disgiunto dal corpo. È un'antica massima, appunto, che ci viene dalla Grecità e poi dai Romani, che la mente sana sta in un corpo sano. Voi direte, ma perché? Ce lo dicono le scienze contemporanee. Oggi ci sono delle scienze che si chiamano neuroscienze che ci hanno spiegato che la nostra mente è incarnata. Il modo in cui muoviamo il nostro corpo, le posture che abbiamo incidono sul nostro modo di pensare. Camminare aiuta a pensare, fare sport aiuta a forgiare una mente capace di resistere nei momenti di difficoltà. Un grande sportivo non a caso non allena mai solo il corpo. Hanno dei mental coach con loro che li allenano alla tenuta mentale. Ma poi su questo ritorniamo. Quindi lui fonda questa palestra, dice che la filosofia è aschesis, allenamento di mente e corpo. Vi dice, guardate che l'unica condizione per entrare qui è che siate disposti a faticare. Non a caso dice la filosofia, che alla lettera vuol dire filo, amore, sofia per il sapere, è sempre filo, ponia, amore per la fatica. Allora questo sembra in realtà un po' distante dai nostri tempi e da noi. Una delle retoriche più in uso è quella di vi insegno a fare questa cosa che altri vi dicono, ci mettete un sacco di tempo, in tre minuti. Vi allenerò ma non faticherete, in un minuto al giorno avrete un fisico perfetto. Vi insegno come studiare non in quattro ore ma in un minuto avendo gli stessi risultati. La promessa del nostro tempo è, vi insegno a non fare fatica. Ed è una promessa, direbbero gli antichi, mendace, cioè molto fasulla. Vi faccio ottenere degli risultati senza allenarvi. Non dovete allenarvi, non dovete fare niente di tutto questo. Vi trovo la scorciatoia per fare cosa? Per non fare quel lavoro che fa fare la filosofia, mettersi in gioco, lavorare su se stessi. Quello richiede tempo, richiede crisi, richiede fatica, richiede momenti in cui dico non so da dove diavolo partire, non so come affrontare quel compito o quella prova domani. Ed è sempre questione di compiti o prove anche quando non è la prova scritta o un'interrogazione. Quella roba lì è importante, in realtà ci dice Platone. Perché secondo voi è importante questa cosa della fatica, della crisi, del... potremmo fare una strada... non potrebbe la filosofia insegnarci con tutto il sapere che c'ha delle ottime scorciatoie per arrivare in un punto? Perché secondo voi è importante questa cosa della fatica, dell'allenamento? A che diavolo serve? Allora, intanto c'è questa cosa qui del imparare qualcosa... lo devo fare io, da solo. Cioè non c'è nessuno che lo possa fare al mio posto. Prima consapevolezza è questa cosa qui, ci sono delle cose in cui nessuno può fare al mio posto. Non ci può essere l'altro che mi dà la ricetta dei tre minuti e in qualche modo sembra in qualche modo che lo fa per me. Lo devo fare io. Vedremo tra poco c'è un movimento bellissimo della filosofia, è un'ascesa molto bella e quella la devi fare da solo. Questo non significa che poi non siano importanti gli altri, che tu non debba tornare in mezzo agli altri, ma ci sono dei momenti in cui l'altro non può fare per te certe cose. Neanche la persona che ti vuole più bene al mondo potrà mai evitare che in certi momenti debba essere tu a fare quella cosa. L'illusione di un genitore, ve lo dico da papà di una bambina di dieci anni, è che ci siano dei momenti in cui io posso fare per lei le cose più difficili. La priverai di una cosa importantissima, cioè quelle crisi o quelle difficoltà lì. Vi racconto una storia perché anche io pratico arti marziali come Saccare e Pladdone, anche mia figlia le pratica. Aveva un esame molto importante di cintura rosso-nera, una cintura avanzata, a dieci anni aveva una cintura molto avanzata. Doveva fare un salto, girato, saltato col piede, spaccare una tavoletta di legno. È una bambina alta così di dieci anni. Gli è stata messa la tavoletta molto alta, prova, salta, gira, non riesce a colpire la tavoletta. Riprova, non ci riesce. Va verso la tavoletta e la abbassa. Il suo maestro di arti marziali, un'arte marziale orientale coreana molto rigida, gli dice non devi abbassare la tavoletta, sei tu che devi saltare più in alto. In quel momento da papà ho detto, a dieci anni, abbassato di tre centimetri una tavoletta di legno spessa così eccetera, mi sembrava eccessivo. Mia figlia, ma io non potevo intervenire, è rimasta ferma, immobile, l'ho detto in crisi. Tutti quelli che avevano pensato in questo momento sta attraversando la sua crisi. Si è presa il suo tempo, ha saltato, ha spaccato la tavoletta. È la stessa roba di Platone, della fatica eccetera. Ci serve la fatica e ci serve l'allenamento perché? Perché ci serve a scoprire, di sapere poter fare cose che non sappiamo di fare. Nella scorciatoia dei tre minuti noi semplicemente ci muoviamo in un terreno che è il nostro, in cui ci muoviamo bene, che conosciamo, che non ci mette in crisi, in cui sappiamo fare quelle cose lì. Possiamo stare tutta la vita in quel terreno lì che si chiama zona di comfort. La filosofia invece è quella che ti spinge a dire esci dalla zona di comfort, prova a diventare altro da ciò che sei, prova, ed ecco lo scopo dell'allenamento, a diventare migliore il più possibile. Questa è la formula che usa Platone. Perché allenarsi? Per diventare migliore, il più possibile. All'inizio qualcuno di là mi diceva, Giulia Stasi, Alessio Sakara, cosa fanno? Si allenano per raggiungere degli obiettivi. Ma quegli obiettivi lì non sono alla vostra portata, non sono alla portata di nessuno. Pensare che gli obiettivi siano alla nostra portata e io quindi trovo la scorciatoia per raggiungerli è un'idea fallace. Vi stanno abbassando gli obiettivi, vi stanno abbassando la tavoletta. Uno può decidere di mettersi gli obiettivi alla propria altezza giusta, quella in cui arrivo, oppure può decidere di alzare la tavoletta ma per arrivare a quel punto lì più in alto allora io devo attraversare una crisi, cioè lasciarmi indietro una parte di me e scoprire una parte nuova che non conoscevo. Ci devo lavorare molto per diventare altro da ciò che sono, per trasformarmi. La filosofia è quest'arte dell'allenamento per trasformare voi stessi, per mettervi all'altezza di obiettivi più alti che vi sarete dati. Il punto è che questa trasformazione qui implica una fatica enorme, perché io devo fare cose che non so fare, devo fare cose che non ho voglia di fare, devo fare cose che in realtà non mi piace fare anche se l'obiettivo mi piace. Avete citato più o meno qui conoscete questa ballerina, Giulia Stabile, è ad amici. Ha avuto delle crisi? Io seguo perché mia figlia segue amici. Le ha avute. Sono stati momenti in cui pensavo di non riuscire a fare, di non riuscire a ballare eccetera. Si allenano, tanto si allenano. Chi si allena ama allenarsi? Io faccio arti marziali, mi piace molto combattere. Quando devo fare gli allenamenti duri, però sono faticosi, vado in palestra non proprio felicissimo di farlo. Quando ho finito sono contento, ma mentre sono lì, se devo fare 50 piegamenti sulle braccia a terra, fa male, brucia, non chiede tanta fatica, ma se io devo ottenere quel certo tipo di forza non posso che passare di lì. Ieri sera quando sono arrivato, ero in hotel, dovevo far venire lezione, farevi lezione, preparare i testi eccetera, ho un esame di arti marziali a fine mese, pioveva, non avevo voglia di andarmi a allenare, però dovevo farlo, mi ero fatto una giornata di treno, mi sono messo, sono andato al porto, pioveva, mi sono allenato. È stato piacevole? Non è proprio precisamente piacevole, ci sono delle cose che non sono piacevoli da fare. L'obiettivo però mi importa, sì, moltissimo, e allora se l'obiettivo mi importa io faccio anche cose che non mi piace fare. E questo è di nuovo un po' in controtendenza con la modalità di pensare oggi che è tutta sul mi piace, non mi piace. Il mi piace, non mi piace è importantissimo, facciamo tutti. Le cose che non mi piacciono in media cerco di evitarle e ci sta. Non sono lì a sacrificarmi continuamente a mettermi il cilicio, una cosa che mi fa soffrire. No, molte cose che non mi piacciono non le faccio. Ma io devo sapere anche, pensare che in certi contesti, se voglio ottenere un certo tipo di risultati, non alla mia portata, certe cose che non mi piacciono le devo fare. Perché la misura del piacere non è la misura degli obiettivi più alti. La misura degli obiettivi più alti è un certo, Freud, che è un padre della psicanalisi, lo chiamava il piacere nel dispiacere. C'è una cosa che mentre la faccio si mi dà fastidio, però poi pensando all'obiettivo mi dà un senso di appagamento. È diverso dall'essere felici, essere appagati. Essere felici, ho fatto una cosa che mi piace, sono felici, ma molto spesso è una cosa un po' istantanea, si brucia lì allora ne c'è alcun'altra. Essere appagati è, sono riuscito a fare qualcosa di complesso, di difficile, in cui altri non credevano, in cui in fondo nemmeno io credevo, però sono riuscito a farla. Quindi essere appagato vuol dire essere pienamente se stessi. C'è un punto in cui voi vi sentite pienamente se stessi, pienamente realizzati. C'è voluto tempo magari per arrivare lì, c'è voluta tanta fatica. Quel punto lì è essere appagati, che non è solo essere felici. Magari portate anche le ferite di un percorso che possono essere emotive, psichiche, fisiche, ma contano quelle cose lì. Le ferite psichiche sono fatte di delusioni, di cose che non sono andate bene, di dispiaceri che magari ho dato a un altro che si attendeva un'altra cosa da me, ma in quel momento per me era importante farlo. Quelle robe lì non vengono cancellate, costituiscono il soggetto nel suo appagamento. Allora Platone si costruisce questa palestra, cioè o meglio era già costruita, lui la crea come spazio nuovo, perché prima qui si lottava solo. Ora la filosofia non è solo allenamento e lotta. Torniamo di nuovo ai nostri due di prima. Lotta, benissimo, Sacara, Platone condivide, faceva pancrazio come lui. Danza. Per l'antico greco, nella formazione dei giovani, insieme alla lotta, l'altra grande arte era la danza, cioè la capacità di muovere con armonia il corpo. A ritmo di cosa? Di musica. Qui si ascoltava molta musica. Io infatti stamattina venendo da voi mi sono messo le mie cuffie e ascoltato musica. Mi aiuta molto a pensare, ascoltare musica in certi contesti. Da un certo ritmo al pensiero, anche parlare dovrebbe avere un certo ritmo. Loro facevano molta musica, per loro la poesia era musica, aveva un accento che non era quantitativo, era qualitativo, quindi era cantata, era spesso accompagnata. La Grecia è molto, è uno spazio culturale molto musicale. Non c'erano i maneskin, ma avevamo altri gruppi musicali che facevano musica diversa, ma nella palestra di Platone c'era musica. Perché? Perché lo spazio del sapere è uno spazio in cui i corpi hanno una loro eleganza, una loro grazia, una loro bellezza nel movimento. Sanno muoversi bene, sanno parlare bene, sanno argomentare bene. Sono belli a 360 gradi. Che cosa vuol dire belli a 360 gradi? Hanno un'apparenza bella? Sì, nel senso che si prendono cura anche del proprio aspetto, ma si prendono cura della propria anima. O meglio, hanno l'arte di far trasparire l'anima all'esterno come una certa forza, una certa intensità vitale. Ecco anche a che cosa ci si allena a arrivare a questo tipo di intensità vitale che si esprime in tutti i campi. Devono dominare la retorica, la logica, la filosofia, la letteratura, la danza, il pancrazio, tantissime cose che però messe insieme formano un soggetto di un certo valore. Platone. Si chiamava davvero così questo signore? No. Lui si chiamava Aristocle. Il nome Platone gli viene perché il suo maestro di lotta da giovane gli dice tu hai le spalle larghe, sei ben piazzato. Non era appunto il signore con la barba di Raffaello. Sei un bravo lottatore. Secondo alcuni ha vinto anche le Olimpiadi, sicuramente ha partecipato ai giochi pitici che erano importanti nell'antichità. Era davvero un atleta valente. Quando la palestra lui ha 40 anni, siamo nel 387, quindi è un giovane di 40 anni che apre questo spazio, non lo apre ad Atene, lo apre un po' fuori. Siamo a un chilometro e mezzo di Atene, c'è un bosco molto bello di Ulivi. Oggi nella periferia di Atene ci sono ancora le tracce di questa palestra e ad aprire dovrei andare a fare proprio con degli studenti di tutta Europa una lezione anche fisica nella palestra di Platone, o meglio nel prato che resta di quella palestra. È un luogo dove i giovani cominciano ad andare. Sono annoiati di quello che accade ad Atene, non gli piace quello che gli propone la città, così vanno di corsa alla palestra di Platone. Aristofane, che scriveva nell'antichità commedie, ci racconta come in primavera si vedevano gruppi di giovani che correndo uscivano da Atene per andare in palestra da Platone, a fare cosa? A mettersi in gioco, a provare a diventare qualche cosa che le famiglie, la politica, la distruzione non avevano previsto per loro, a scoprire il proprio demone. Platone quando è in questa palestra combatte con loro, dialoga con loro, scrive i dialoghi che ci sono rimasti e in questi dialoghi di cosa parla? E ci parla anche di come parlare, dialogare sia lottare con gli altri. Attenzione, qualcuno potrebbe pensare che quindi però questa dinamica della lotta non va bene. Siamo una società che non ama il conflitto, in teoria, ci dobbiamo essere dialogici, non dobbiamo bullizzare nessuno, assolutamente giusto, ma quel tipo di lotta era una forma di bullizzazione, una forma di esercizio violento senza rispetto per l'altro? No. Chiunque combatta o faccia sport da combattimento, lotto o altro, come chiunque faccia danza, sa che bisogna usare tantissima forza fisica in una forma, ma la prima regola è il massimo rispetto per l'altro. Perché? Perché io so che ha faticato quanto me quello per arrivare a quel punto, si è allenato quanto di più di me e io quindi condivido con lui qualcosa che molto spesso non condivido con altre persone. Quindi chi combatte ha il massimo rispetto per la persona che ha davanti, sa che quello che può imparare lo impara dall'altro, non da sé. Allenarsi in combattimento vuol dire questo, imparare dall'altro qualcosa su di me che non so. Se io mi alleno nel combattimento da solo a fare tante posizioni, io non so se le so davvero quelle posizioni. Le so quando combatto con un altro, quando l'altro mi oppone una certa resistenza alla mia forza ed è in quel rapporto di forze che io cresco miglioro. Platone applica questo alla lotta e lo applica al dialogo e alla filosofia. Imparare a dialogare, formare i giovani, non è semplicemente trasmettergli un sapere, dai studi a casa e domani me lo ripeti a posto, ma è insegnargli a avere una certa forza, capacità di resistere anche alla mia argomentazione. Come dico ai miei studenti di filosofia all'esame, potete, io vi faccio le domande rispondere, dire tutto quello che avete imparato, avete seguito i corsi eccetera, oppure potete contestare dall'inizio alla fine tutto quello che ho detto. Se non ne avete la forza e perdete l'esame va male, ma se avete la forza per contestare le mie posizioni e quella contestazione funziona, io avrò naturalmente il massimo rispetto per questo e vi andrà bene. Ho detto questo perché me l'ha insegnato il mio docente all'università, mi presentai a un esame, era di storia della letteratura italiana, con un grande poeta e scrittore italiano, grandissimo intellettuale, si chiamava Edoardo Sanguinetti, fece un esame in cui follemente contestai tantissime cose sue, alla fine lui mi disse io e lei non siamo d'accordo su niente, e io lì ho tremato, ho detto mi sono giocato l'esame, però le do 30 è lode perché lei lo ha sostenuto alla perfezione. Questa è la modalità di insegnamento di Platone. L'allievo non deve essere per forza d'accordo col maestro, non deve ripetere quello che gli altri vogliono sentirsi dire, deve usare tutto quello che gli è stato dato, tantissimi strumenti, per trovare, per esprimere la propria singolarità. Questo non significa che abbia sempre ragione, ma la filosofia della vera ragione non ha grande interesse, anche perché Socrate spesso non trova una posizione adeguata, non ha la risposta giusta, nei primi dialoghi non si conclude bene. La filosofia è un'arte dell'errore. Io devo provare un sacco di cose per capire se funzionano o meno. Chi pensa che devo avere solo la risposta giusta, solo la strada giusta e tutto funziona, non ha capito niente della filosofia. Quell'allenamento lì è fare un sacco di errori, fare un sacco di errori come chiunque si allegni. Per provare una coreografia di danza dovete fare tantissimi errori e chi si allena nelle arti marziali molto spesso fa qualcosa per Platone, era simile, simile alla danza, cioè dovete fare una serie di posizioni. Basta un piede messo male non funziona, in una leva articolare basta un angolo che non è di 45 ma 46-47 non funziona la leva. Quei dettagli lì sono fatti, si raggiungono tramite migliaia e migliaia di errori. Il punto è sono capace di per sé di andare avanti, sì l'errore ho sbagliato, mi sono rimesso dietro, riparto da capo. Questo tipo di forza è una forza mentale che vi dà la filosofia. Ecco l'altro punto. Allenamento, allenamento fisico, allenamento al dialogo eccetera, ma allenamento a una certa forza mentale che è la cosa più difficile da ottenere. La forza mentale non è il sapere, voi potete essere preparatissimi su tutto e avere forza mentale zero. Cioè io sono preparatissimo, domani mattina vado all'esame, mi agito, buco, non so più niente, non ho forza mentale. Ero preparato, sicuramente eri preparato, ho avuto tanti studenti preparatissimi, blocco davanti al professore all'esame. Avrei potuto dire, potrei dire, potrebbero dirvi i vostri professori, ma io lo so che sei preparato, quindi va bene così, ti metto a tuo agio perché tu possa dirmi, si può fare in certi contesti, può anche essere giusto farlo, non sempre però è giusto fare così. Una cosa fondamentale della formazione è anche darvi la forza mentale perché in contesti che non sono agevoli per voi, in momenti difficili voi sappiate usare quelle risorse che avete, altrimenti non sono risorse. Se io so tutto ma al momento opportuno di metterlo in pratica non funziona, allora io non sono veramente preparato. La filosofia è amore per il sapere, non è essere dei sapienti. Significa avere l'amore per questa cosa qui, avere la forza in certi contesti di saperlo utilizzare. Da qui la filosofia, la parola allenamento come allenamento della vostra forza mentale. Molto spesso noi questa forza mentale non l'alleniamo o non siamo abituati ad allenarla. Perché? Perché è una delle cose più difficili da fare. Anche per gli atleti stessi è una cosa difficile la forza mentale. Non so se quest'estate aveste visto le Olimpiadi. Simon Biles, atleta straordinaria americana, atleta che ha fatto in prova di tutto, che ha vinto di tutto, alle Olimpiadi è andata in crisi, ma da che punto di vista? Mentale. Non ha più retto la pressione. C'era una pressione enorme su di lei. Era la predestinata a prendere altre 20 medaglie d'oro, eccetera. Non ce l'ha fatta. Ha avuto la forza di riconoscerlo, non è facile davanti al mondo, non era l'interrogazione a scuola. Il lavoro sulla forza mentale è un lavoro difficile. Perché Platone lo fa in palestra? Perché non si lavora sulla forza mentale solo a livello di trasmissione, di sapere. Bisogna lavorare sul corpo, sulla postura. Ad esempio io stamattina mi sono messo qui in piedi e non me ne sono stato seduto lì. Cambia qualcosa, fa il simpatico, si mette in piedi, non vuole fare il professore, eccetera. Avrei comunicato in maniera diversissima con voi. Se mi fossi seduto lì, magari con dei fogli davanti, ogni tanto guardando, parlandovi, eccetera, avrei inserito un oggetto dello spazio, degli altri oggetti, un sapere scritto, un'attenzione diversa con voi. Mi sarei messo su una posizione sopraelevata? Sono tutti i segnali che la nostra postura, il nostro corpo, danno agli altri. I segnali che volevo darvi erano diversi. E anche mostrare che la postura seduta l'abbiamo inventata a un certo punto come postura del sapere. Voi a scuola state seduti in media durante la lezione. Non credo che vi... Alzatevi un po'. Alzatevi un po' in piedi. Ecco, già questa cosa qui fa strano, ci fa alzare. Perché? Perché questa cosa? Perché mettersi in piedi? Sono a disagio adesso, ma ci farà stare in piedi tutto il tempo, ci fa fare flessioni, barbis, eccetera. È solo per capire che le abitudini tutte quelle che abbiamo hanno una costruzione culturale. C'è dietro qualcuno che ha deciso così, c'è dietro qualcuno che ha pensato che fosse meglio così. Non diamo mai per scontato questo fatto, che per studiare si debba ad esempio stare seduti. Ho fatto delle lezioni, oggi non si poteva, qui non si poteva, all'aperto, in piedi, in tutta da ginnastica, lavorando in maniera diversa. Oppure facendo stare le persone sedute a terra, che è ancora un altro tipo di postura. Ora vi faccio sedere, aspettate ancora un attimo. Stare seduti, è stata inventata come postura, ha una storia questa postura, serve ad un fatto, farvi dimenticare di avere un corpo, mentre c'è la trasmissione di sapere. Insieme allo stare sdraiati a letto, a un certo tipo di altezza, è un modo per cui noi non ci ricordiamo tanto di avere un corpo. A meno che qualcuno non ci tocchi una mano a un certo punto, qualcuno non ci dica di alzarci, eccetera. Adesso vi ho ricordato che avete un corpo. Lo sapevo anche prima, grazie, non è una gran scoperta. In realtà questa postura quasi da sala cinematografica è fatta per questo, le sale cinematografiche che mettono anche il buio, sono un modo perché voi vi identifichiate con i personaggi e dovete in qualche modo dimenticarvi del vostro corpo. Non a caso avete una fase anche un po' di regressione vicino al sonno, per questo qualcuno magari anche qui stamattina ha dormito. Se qualcuno ha dormito va bene, ecco, fa parte di una modalità di stare seduti. Sedetevi pure. Ora, Platone amava molto questa cosa dello stare seduti. Socrate come insegnava al suo maestro? Li metteva tutti seduti, adesso ci siamo in piazza, perché anche qui bisogna chiedersi, farsi le domande quelle più banali. Socrate, bene, dove insegnava? Ci avevano le aule, in casa, su un prato? No, nel mercato, ad Atene. Socrate andava in giro a disturbare camminando, passeggiando. La filosofia nasce tra palestra, passeggio, corsa. Abbiamo qualche immagine mai tarda del filosofo seduto, spesso un po' così, eccetera. Però si muovevano, erano gente allenata, non stavano seduti. La postura seduta è una postura che arriva tardi nella trasmissione del sapere. Altri filosofi che vengono dopo, i cinici, vivono per strada, mangiano per strada, si muovono. Di oggi nel cinico vive in una botte. È un modo di abitare lo spazio diverso. C'è un rapporto tra sapere e spazio. Di solito, se voi fate queste conferenze qui, vi mettono in un'aula. Se avessi chiesto stamattina, andiamo in spiaggia, c'è un problema logistico enorme, è pazzo, cosa vuol fare? Piove, c'è freddo, si ammalano la sabbia, perché? Ci sono le aule, eccetera. È scontato, perché è una storia molto grossa, una storia simbolica, che il sapere si trasmette in questo tipo di spazio, con questo tipo di postura, a quell'altezza lì. Vedete, chi se ne frega dell'altezza delle sedie, eccetera. Beh, questa è un'altezza occidentale, intanto, di stare seduti. In Oriente, per tanto tempo, questa roba qui non c'era. Si sta seduti a livello del ground, del suolo. Quello spazio lì, ad esempio, a terra, voi non lo frequentate quasi più. Lo avete frequentato da bambini, ci arriviamo perché ne parla Platone. Lo avete frequentato da bambini, stavate per terra, eccetera, giocavate per terra. Più si diventa grandi, più non si sta per terra. A parte che non facciate danza, danza contemporanea, che scopre il ground, la danza fino a un certo punto non considera questo spazio, questo spazio per i piedi. Da un certo momento in poi la danza, se voi avete visto i balletti di Giulia Stabile, lo sapete, scopre quella parte lì. Ci sono danze contemporanee che sono fatte quasi tutte su questa parte. La Breck lavora moltissimo su questa parte. Ci sono forme di lotta contemporanea, ma molto contemporanea, che io pratico, che sono combattimento a terra. Quello spazio lì è uno spazio di sapere? Sì. Ma in media, se vi dico, lo vedete in piedi, ma se avessi detto sdraiatevi, anche le vostre maestre avrebbero detto, perché sdraiatevi a terra, eccetera. Filosofo contemporaneo, si chiama Richard Schusterman, usa i tappetini in palestra e fa anche sdraiare per lavorare con certe modalità di trasmissione di sapere. Una trasmissione molto diversa. È usata, ad esempio, in pratiche di sapere orientale, lo stare sdraiati. Per noi lo stare sdraiati è andare a dormire. Fine. Però a che altezza? Attenzione, è un'altezza così. I nostri letti sono così, le sedie sono così. perché? Perché noi stiamo seduti e sdraiati più o meno a questa altezza? Perché? Chi è disposto a fare un esperimento con me? Un volontario? Volontaria? Sì, sì, sì. Applauso al volontario spontaneo. Ha scelto questo tipo, non è un ha scelto qualunque, adesso lui viene dal centro. Come ti chiami così? Ciao Alessandro, grazie. Allora, ti chiedo, prima se ti siedi e ti alzi da lì, è una cosa semplicissima. Eh, va bene. Alziamoci. Ok. Ti posso chiedere di sederti a terra? Sì. Ok. Ok. Adesso alzarsi. Cosa cambia, Alessandro? Eh, faccio più fatica. Perfetto. Alessandro ha colto perfettamente il punto allenato, prestante, platonico. Il passaggio da lì a su è poca fatica per noi, perché quel tipo di postura la gestiamo. Con il letto la gestiamo. Da terra alzarsi in piedi è faticoso. Noi non sappiamo alzarci in piedi. Ti chiedo di risederti a terra. Allora, Alessandro, di alzarti senza usare le mani. C'ha mal di schia. Anche mal di schia. Ok, ok. Sforzo ulteriore. Per alzarci dobbiamo usare le mani, a meno di non usare certe posture, certe cose. Prego. Domanda? No, no, prego, prego. Ah, no, scusa anche tu. Mi sono messo la maschera. Sono vaccinato, ma... Ok, Alessandro ti ringrazio. Poi facciamo un applauso, Alessandro. Vi alzate in un movimento. Vi alzate da terra in più movimenti. Se non usate le mani diventa difficile. Ho mal di schiena, mi crea problemi, eccetera, eccetera. Anche da letto vi alzate con due movimenti. Un letto che fosse a terra per rialzarsi è difficile, perché noi non frequentiamo quella parte lì. La società occidentale, così come la viviamo, è costruita in modo a rendere agevole per il nostro corpo certi movimenti ed eliminarne tutta una certa serie, che non a caso però vengono riscoperte dalle arti, dalle certe forme d'arte, che si tratti, ad esempio, della pittura. Un quadro come lo dipingete voi? Cavalletto. Mica me lo metto a questa altezza qua, e neanche lassù, me lo metto qui. Il quadro sta a altezza faccia di me in piedi, oppure di me seduto. Si può dipingere con un quadro per terra? Sì. Chi ha dipinto con un quadro per terra? Sapete, c'è uno che ha dipinto i quadri buttando a terra. A un certo punto, nel Novecento, la pittura cambia. Dice, proviamo a fare arte al suolo. Questo pittore si chiamava Jackson Pollock, metteva delle grandi tele per terra, usava dei bastoni o anche dei pennelli, ma in grosse latte di pittura, intingeva, camminava sul quadro e lasciava scolare la pittura. si chiamava dripping. Dipinge a terra. La rivoluzione sua non è solo la rivoluzione pittorica dell'immagine, che voi dove vedete questi quadri senza forme, che hanno però dei ritmi. È anche andare a dipingere a quell'altezza lì. Al cuore della palestra di Platone c'è quel quadrato dove fa lavorare a quell'altezza lì, a quello spazio, in quello spazio a terra. Perché? Perché se andate a lavorare lì, voi sviluppate a livello cognitivo, mentale, proprio cettivo, cioè la percezione del vostro corpo, del sapere che non sapete neanche di avere. Se vi metteste, io mi ricordo, anni fa feci, io avevo combattuto in piedi per tanto tempo, la prima lezione di combattimento a terra. Sono durato un minuto. Non sapevo cosa... Mi sembrava di essere una tartaruga girata sulla schiena. Non avevo nessun sapere. La maggior parte dei rischi di un'aggressione, eccetera, è che se finite a terra, è finita. Perché naturalmente sapete dare qualche calcio o qualche pugno, ma combattere a terra, se uno non è addestrato, non sa cosa diavolo fare. Perché? Dovete imparare a usare le gambe come braccia, dovete imparare a fare tutti dei movimenti per muovervi bene al suolo, come chiunque faccia danza usando il ground, deve riscoprire tutta quella parte. È una reinvenzione dei corpi. Le arti contemporanee, la danza contemporanea, le pratiche di combattimento contemporanea hanno reinventato anche culturalmente il nostro corpo, riprendendo cose dell'antichità, facendolo lavorare in un altro spazio. Quindi, quando la filosofia vi parla di allenamento, non è solo una metafora. Vi dice anche, esploriamo spazi inediti. Andiamo a cercare il sapere laddove non sapevamo neanche potesse essere possibile. Mi invento un quadro a terra. All'inizio Pollock come veniva considerato? Come una nullità. Sono pasticci questi. Ma come cammini sul quadro, metti i piedi sul quadro. Altra questione, i piedi nel quadro. I piedi che stanno a terra sono considerati simbolicamente la cosa con meno valore. fatto con i piedi, è un modo per dire fatto male. Perché diciamo fatto con i piedi? Perché abbiamo costruito dei valori simbolici. Ciò che è in alto è bene, la testa, ciò che è in basso non è bene, a terra si striscia, a terra si cade, a terra è una roba da animali invertebrati, da vermi, eccetera. Quello spazio ha un valore negativo, lo spazio alto ha un valore positivo, la nostra mente è bene, i nostri piedi no, le nostre mani sì. Ci sono dei momenti dove questo viene rivoluzionato. Per danzare contano le mani, sì, ma contano tantissimo i piedi. Pensa con i piedi una ballerina. Se voi conoscete quella ragazzina che vi ho fatto vedere prima, ballerina Giulia Stabile, quando parla non è proprio un mostro di sapienza. L'avete presente? Quando l'avete mai vista? Chi ha mai visto parlare? Ride, è molto timida, eccetera. Quando balla, che cosa dicono di solito? Quali sono i commenti, se qualcuno li sa? Che trasmette moltissimo. Sembra un'altra persona. Si trasforma in un'altra persona. Quella ragazzina che era timida, ed a scuola è stata raccontata storia di bullismo che ha subito in tutta la scuola, si è inventata uno spazio dove essere se stessa alla massima potenza. Poi uno può contestare talent, può contestare tutto, possiamo criticare tutto. Però quella ragazzina lì ha fatto qualche cosa. Si è allenata, ha fatto fatica, ha fatto qualcosa che gli altri non gli avrebbero mai riconosciuto. È un'incapace, è brutta, non è. Si è ritagliata al suo spazio e quello spazio lì lo ha fatto diventare il suo. Dove non c'è spazio per altri, a meno che non vogliano competere, mettersi in gioco, faticare, eccetera. Se lo è conquistato. Il sapere, come la filosofia, anche conquista di spazi. Platone si conquista questo spazio qui. Va lì, e questo però era lo spazio di allenamento, e tu dici, benissimo, io qui ci faccio filosofia. Ma il punto è, che cos'è la filosofia? Non c'era quella parola. Adesso io ve lo ho raccontato come fosse, c'era la filosofia, tutti sappiamo. Quando lui apre la sua palestra, la parola filosofia quasi non esiste. Avevano usato i pitagorici, Socrate non ne ha parlato. Lui si inventa da zero una cosa che è sua. Ed è evidente che all'inizio, è che venisse considerato questo genio. E' un signore di 40 anni, che viene dal, che ha un orecchio rotto, spaccato, perché faceva boxe, faceva lotta, che si inventa questa cosa filosofia, non c'è nei programmi di formazione ad Atene, non era insegnata questa cosa, è un nuovo sapere che entra nello spazio pubblico, sì, piace, sì, i giovani vanno, sì, si crea una comunità attorno, sì. Lui questo spazio se lo è conquistato, e da questo spazio qui, 44 metri per 77, quella che noi oggi chiamiamo Europa, Occidente, ma anche nasce qui, nasce in quello spazietto lì, perché se l'ha inventato lui. Quella roba lì è una roba di un'immensa potenza, segnerà tutto il sapere occidentale, non solo la storia della filosofia, attenzione, Platone è importante come la filosofia per ogni campo del sapere. Quindi è in uno spazio relativamente piccolo, dove ci si inventa delle cose, dove si usa uno spazio con la sabbia, si usa il colonnato per camminare, si fa sapere, e si cammina quando si fa sapere, perché l'altra cosa dell'antichità, in un caso erano chiamati spesso anche peripatetici, i filosofi, gente che camminava, che si muoveva camminando e parlando. Controllo solo l'ora perché adesso voglio, sì, abbiamo tempo. Questa modalità, questo modo di pensare, questo modo di concepire, una nuova forma di sapere, che tiene insieme mente e corpo, che vi fa faticare per raggiungere un obiettivo più alto, per essere migliori il più possibile, viene raccontata da Platone in un mito. Che cos'è un mito? Sapete che cos'è un mito? Tanto io bevo. Non abbiate paura di sbagliare, di dire cose che non c'entrano, eccetera. Può essere utile tutto. Ora ve lo dico, però vi dico un'altra cosa. un grande pianista jazz, una sera doveva esibirsi, insieme a degli altri, sbagliò una nota durante l'esibizione, c'erano Coltrane, c'erano altri, e alla fine si andò a scusare con gli altri. Scusa per l'errore, non è stato un errore, ha inventato una linea armonica diversa. La paura di sbagliare ci sta, se noi dobbiamo ripetere, dobbiamo dare forme, ma attenzione perché l'errore ha anche una valenza produttiva. Possono venire cose inattese. Io posso avere in testa tutta la mia lezione, ma se voi dite una cosa magari che sembra non centrare nulla, può essere un'ottima occasione, anche per me, per entrare in una strada che non avevo previsto. Quindi prendetevi cura anche di errori e sbagli possibili, perché sono una cosa utilissima. Poi, tanti discartate, però non avviate la paura, non lo so. Evidente che molto spesso non si sa, ma una cosa che diceva sempre Socrate non è io so che, io so che, io so di non sapere. La filosofia parte da quel punto lì. Non sono un sapiente, non so niente, per questo amo il sapere. Nel momento in cui dice io so, non sono più un filosofo. Un filosofo non dice ma io so. Eh, io non so. E a partire da quello che io non so, per tentativi e errori, provo, provo a vedere. Il mito. Il mito è un racconto. Per Platone è un racconto simile, per i grandi, alle favole che si raccontano ai bambini prima di andare a dormire. Accadeva anche nell'antichità. Sono racconti antichi, di cui non si sa l'origine, non si sa chi sia l'autore. e cercano attraverso la narrazione di spiegare delle cose complesse. Cioè, se io argomentassi semplicemente con un ragionamento, perderai tante sfumature. Un mito come racconto tiene insieme più cose. Quindi Platone, per parlare della sua filosofia, della sua palestra, del modo di concepire la vita, a un certo punto, in un'opera, racconta un mito. Ma prima vi volevo far vedere ancora una cosa. Nella palestra si faceva questo. Questa è una forma di lotta in piedi. Quella roba lì è una cosa che si fa ancora oggi per chi lotta, si chiama uno strangolamento. Però non parliamo di strangolamenti, che è meglio. Questa è un'altra immagine di pancraziasti, cioè coloro che fanno quel tipo di lotta che si faceva nella palestra di Platone. Questa è un'altra immagine di Platone che è stata trovata a Berkeley e che ha un orecchio un po' particolare. Vedete questo lobo un po' grosso, gonfio, eccetera. Per tanto tempo questa statua non è stata neanche presa in considerazione. Perché? Perché nell'idea che Platone fosse quello con la barba vecchio che in realtà era Leonardo da Vinci, questo non sembrava avere nulla a che fare con Platone. Ha la fascia d'atleta, ha un orecchio rotto, ma se voi vi togliete dallo stereotipo di Platone vecchio saggio, ecco che questa, come è stato poi affermato, è una immagine di Platone lottatore con l'orecchio lotto. Questa è l'immagine di un film, se non lo avete visto vi consiglio di vederlo, si chiama Million Dollar Baby, un film bellissimo, straziante, lui è Clint Eastwood e in questo film lui fa a una palestra dove vive, allena pugili uomini, un giorno gli si presenta una donna come poteva capitare come è capitato nella palestra di Platone perché sono presenti vi dicevo anche donne che vuole allenarsi e lui dice no io non prendo donne a allenarmi, pugilate è una cosa per maschi, per veri uomini duri, eccetera, niente donne. Lei non dice nulla, si presenta in palestra ogni sera e lavora al sacco. Massimo Recalcati in un saggio in cui parla di questo film dice perché a un certo punto il suo allenatore che lavora davvero quasi come un filosofo al suo taccuino parlano molto, dialogano in questa palestra accetta di allenarla perché vede che in lei c'è la vocazione, cioè lei sa cosa vuole fare, la sua famiglia non lo accetta, la madre, i fratelli tutti la trattano malissimo, lei deve fare semplicemente la cameriera, sei solo una cameriera, non puoi ambire a fare altro, sei vecchia per fare il pugile, a 30 e passa anni, non sei neanche più in età per allenarti e tuttavia lei vuole fare quello, punto. Com'è che si fa riconoscere continuando a fare quello che vuole fare anche di fronte a tutti i consigli di lasciar perdere? La sua risposta è no, quel no di cui vi parlavo prima. Alla fine lui la riconosce c'è almeno uno che riconosce in lei questa volontà e questo talento, proprio come può succedere. È evidente che uno vuole un riconoscimento a un certo punto, non è facile dire io sono questo, vado avanti, se nessuno vi riconosce. Io sono un artista, ma se tutti attorno dicono che non vali niente, a un certo punto ti viene il dubbio che forse non vali niente. ma se c'è almeno uno che riconosce questo, bene, questo può bastare per dare la forza a lei diventare una campionessa. Poi non vi dico come va avanti il film. Questo è un film straordinario su questo fatto, su cercare almeno uno che riconosca quella mia vocazione, quel mio desiderio, ma in primis devo essere io a riconoscerlo ed è quello il vero lavoro, la vera fatica è soprattutto lì. perché una volta che io l'ho riconosciuto, una volta in cui io sono saldo, sì, io voglio essere quell'uomo, voglio essere quella cosa lì, tutto il resto arriva, richiede fatica, ma arriva. Ma se quella scelta lì non è salda, allora tutto il resto poi molto spesso crolla, perché non è ben fondato. Il fondamento è la scelta di se stessi ed è la cosa più difficile. Quell'allenamento filosofico arriva adesso con un'altra formula, per Platone è l'arte della vita, cioè l'arte di costruire, di plasmare la vostra vita come un'opera d'arte, a livello alle altezze che volete, saltando in alto o andando nella parte più bassa dove qualcuno vi potrà trattare come spazzatura, come vervi, eccetera, ma sceglierla con la massima convinzione ed essere davvero certi in voi stessi che quella cosa lì, a quel livello lì, anche se qualcun altro vale. Va sempre bene? No. Trovo sempre quello almeno uno che riconosce? No. Pollock, quello di prima che dipingeva a terra, per molto tempo non ha avuto il riconoscimento simbolico dello spazio artistico, non è arte, punto. E se la maggioranza, se i musei non ti riconoscono come arte, se i critici non riconoscono come arte, eccetera, e tu puoi continuare a farlo ma vivi malissimo quella condizione. O Pollock infatti è finito nell'alcolismo, poi muore schiantandosi contro un albero, eccetera. ha vissuto malissimo quella propria condizione e questo accade molto spesso, accade ad atleti, accade a artisti, non essere riconosciuti, non funziona, potrei fare mille esempi, i più sfortunati sono quelli che dopo la morte hanno successo. uno dei grandi filosofi del Novecento si chiamava Agnice. Fino alla sua morte pagava per pubblicare i libri. I suoi libri venivano stampati e poi in parte mandati al macero. Gli ultimi editori quando gli mandava le copie non ne volevano più sapere. Abbandona l'università perché pensa di dover fare altro perché quello spazio lì non è più il suo spazio. Non trova l'altro spazio, eccetera. Pochi anni dopo la morte comincia a essere riconosciuta in tutta Europa come uno dei più grandi filosofi. Oggi lo consideriamo uno dei più grandi filosofi della storia della filosofia. È stato riconosciuto o no? Ha avuto almeno uno che l'ha riconosciuto? Sì, c'è stato chi lo ha riconosciuto. Un amico, un'amica. Ha avuto quel tipo di rapporti e tuttavia ha perseverato fino in fondo sulla propria strada. C'è una formula molto bella che viene dalla psicanalisi ma è uno psicanalista diciamo così amico di cum di tutto questo spazio che si chiama Lacan che dice l'unica cosa di cui potete essere colpevoli è di aver ceduto sul vostro desiderio. L'etica è questa roba qua. Non è una serie di regole, eccetera. È sono stato fedele al mio desiderio, non a quello che mi piace, lo abbiamo visto prima, non ha a che fare solo col piacere, ma il mio desiderio. Quando l'ho scoperto, quando sono andato a lavorare, a scavare lì dentro, ho visto quella roba lì, sono stato all'altezza, gli sono stato fedele o l'ho tradito a un certo punto. Ecco, lì può esserci per Lacan della colpa. Vi dicevo, nello spazio della palestra di Clint Eastwood ci si allena come lo spazio della palestra di Platone. Ma per fare cosa? Per fare quella cosa che Platone ci racconta in un mito. E adesso vi dico qual è questo mito. Si chiama il mito della caverna. È un mito molto famoso, molto bello, su cui hanno scritto in moltissimi, molto attuale e adesso vedremo perché. Immaginate una caverna con un fondo che sia una parete, come uno schermo. Gli uomini, tutti viventi, per Platone, sono seduti come voi davanti al fondo della caverna che è uno schermo. Sono incatenati, seduti per terra. Incatenati che cosa vedono? Delle immagini. Pensano che quelle immagini siano la realtà. Platone dunque ci presenta così il mondo del suo tempo, l'attene del suo tempo, cittadini seduti, incatenati, che guardano immagini riflesse su uno schermo che al fondo della caverna non aveva il concetto di schermo. Platone ma sta pensando a qualcosa che sembra un cinema. Perché? Perché quelle immagini proiettate da dove arrivano? Dal fatto che questa caverna è in salita, proprio come la salita che vedete dietro di voi. In fondo c'è un muretto. Dietro il muretto passano delle persone con sopra delle forme ritagliate. Fuori dalla caverna c'è il sole. Il sole proietta la luce, quelle immagini ritagliate proiettano le ombre, sullo schermo in fondo vedono le ombre proiettate. Un protocinema. Il cinema delle origini lavora in questo modo. Platone pensa alla realtà del suo tempo come questa sorta di megaspazio cinematografico. E cosa dice? Dice che le persone sono un po' in fondo rimbecillite perché sono lì davanti a questo schermo tutto il giorno e pensano che questo schermo sia la realtà. Potete anche pensare in una postura diversa a quello schermo. Così. E tutto il giorno le persone qui pensano che sia la realtà. Non va trascurato lo schermo. Non va trascurato questo, non va trascurato quello perché è parte della realtà. La filosofia però cosa vi insegna a fare? A vedere se c'è qualcos'altro oltre lo schermo. Se io sono tutto lì, se tutto funziona bene così, se voglio starmene incatenato lì o seppure provo a fare qualcosa di diverso. Cercare altri punti di vista, un'altra postura. Ad esempio, ve l'ho fatto alzarvi prima ma adesso vi dico perché, Platone dice e se qualcuno si alzasse in piedi invece di stare lì seduto davanti allo schermo? Si può fare? No, non si può fare perché nessuno fino adesso l'ha fatto e tuttavia in certi contesti bisogna provare a inventare movimenti che fino a quel momento non erano previsti. Un alzarsi in piedi che ha a che fare con una consapevolezza, ci vuole del sapere, ci vuole la parte fisica ma ci vuole un sapere. Non mi alzo in piedi per caso, se sono abituato a stare sempre di seduto. O qualcuno me lo chiede, alzati, oppure io mi alzo e do la ragione perché mi alzo. Ad esempio, uno stamattina si alza, guardi, secondo me lei sta dicendo una marea di cavolate e vorrei contestarla. Benissimo, potete farlo in qualunque momento. Platone è uno di quelli che si alza. Rispetto a quello che succedeva nella città, tutto lo schermo che gli veniva proiettato, le cose belle, la politica, eccetera, lui si alza e dice dobbiamo fare lo sforzo e la filosofia è questo di alzarsi in piedi, agnistemi, proprio tirarsi su. Poi dice e voltarsi sui noi stessi, quindi ti alzi in piedi, rompi le catene, ti volti su te stesso. Quando lo descrive usa dei termini che sono presi dalla danza e dalla lotta. Dice dobbiamo fare una torsione di noi stessi e del nostro animo. In greco è periagoghe oletes psiches, cioè la torsione di tutto l'animo. La formula torsione, non so se avete mai visto quest'opera d'arte molto bella, il discobolo di Mirone, è un uomo con un disco che ha il busto in torsione pronto a lanciare ed è molto teso. La danza è piena di torsioni ed è un movimento scontato, assolutamente no. Noi in media non ci giriamo su noi stessi, andiamo avanti, andiamo indietro, ma questo tipo di movimento non siamo abituati neanche a farlo, non siamo addestrati a farlo. Se voi dovete imparare a fare un giro su voi stessi dovete allenarvi. Un ballerino passa a fare un giro, due giri, tre giri, quattro giri, ma il giro su noi stessi ci mette in difficoltà perché ci fa perdere l'equilibrio dello stare in piedi, mette in discussione il nostro equilibrio, dove la parola equilibrio ha un significato molto grosso. Sto bene a stare in piedi, so stare al mio posto, eccetera. non mi giro normalmente su me stesso. Nella danza è così, nel combattimento i calci più difficili sono quelli di cui vi parlavo prima, è il calcio girato con la torsione su se stessi. Ci vogliono anni per impararlo, fa malissimo la schiena, fa malo le ginocchia, non viene mai, eccetera. Quindi il lavoro che richiede il bratone è difficile, torsione e rivolgere il capo da un'altra parte. C'è un poeta del Novecento che si chiama Montale, non so se lo avete mai sentito, che è stato uno dei grandi poeti del Novecento, che in una poesia dice qualcosa di simile. Dice un mattino andando in un'aria di vetro, eccetera, mi giro per cogliere il mondo alle mie spalle. Noi non abbiamo la vista dietro, il mondo alle nostre spalle noi non lo vediamo. Girarsi per vedere se c'è. Chi ci assicura che alle nostre spalle ci sia il mondo? Essere presi alle spalle, essere presi nel punto in cui noi non dominiamo bene, perché noi siamo puntati verso l'avanti. Quindi Platone guarda cosa c'è alle spalle, cosa c'è al di là dello schermo, dietro lo schermo. Quindi per staccarsi dallo schermo c'è un lavoro complesso di postura fisica e mentale, lui parla di animo. Quindi ci sta dicendo con quella roba lì, non ha detto lascia uno a parte e esce, se ne va, no, si alza, fa la torsione su se stesso per dirvi guardate che è un lavoro difficile, richiede Askesis, quella roba lì, sempre allenamento. Siamo a posto? No, c'è tutta la salita da fare, dice Platone. In più dice non sono abituato, andando verso fuori c'è molta luce, io sono abituato al buio, quindi non vedo nemmeno niente. Quindi movimento difficile, perdo l'equilibrio, in più non vedo niente. Mettere in discussione le cose più diffuse, quelle a cui tutti credono, a cui tutti danno assenso, significa andare in difficoltà, non vederci più bene, non sapere più bene, non vi ha detto il filosofo sa alzarsi, va fuori, bene, no. Dice il filosofo mette in dubbio, ma non ha già un sapere per darvi la risposta, deve uscire fuori per vedere cosa? La realtà al di là della caverna, la realtà dietro le immagini, è il mondo delle idee. E poi il filosofo se ne sta lassù, questa è una delle soluzioni possibili. Al filosofo non piace il mondo così che ha mai visto, si ritira nella sua palestra, si chiude dentro, a rivederci società, me ne sto per conto mio. No, Platone la sua palestra la tiene aperta, la tiene in contatto, c'è una strada che va dalla palestra all'agorà, passa attraverso il ceramico che è il cimitero antico di Antene. C'è un contatto con la città, non si rompe il contatto con la città, non si rompe il contatto con la comunità. Bisogna rimanere, si prendono le distanze, ma si rimane in uno spazio di dialogo, di apertura critica, di confronto, anche perché altrimenti penserei di aver, o la verità io, voi non avete capito nulla, io sto con il mio gruppo di filosofi a discutere. No, io torno in città. Di più mi interessa parlare di filosofia con chi non ne sa nulla. Venire qui con voi stamattina, per me è più importante che andare a fare lezioni con quelli che si sono iscritti alla filosofia, vogliono fare filosofia, sanno già tutto della filosofia, danno per scontato chi è Socrate e Platone. In fondo non è così interessante parlare di filosofia con chi sa già la filosofia, almeno non lo è per me. È molto più interessante discuterne con chi appunto magari tra mezz'ora il tempo ormai, poi non si interesserà più di filosofia. Però per me quel tempo lì è speciale in un senso particolare, nel senso che faccio davvero quella roba lì di cui parlava Platone. Metto in circolo qualcosa, non so cosa resterà, però la circolazione, quindi questo tipo di iniziative senza retorica sono importanti, almeno se crediamo che lo spazio pubblico debba essere uno spazio dove si formano delle coscienze critiche, libere, che sanno allenarsi, che sanno voltarsi, che sanno scegliersi il proprio spazio, che non si fanno imporre tutti gli spazi semplicemente dall'altro. tornato fuori il filosofo deve fare il lavoro inverso, deve tornare nella caverna e cercare di farsi ascoltare da quelli che sono incatenati davanti allo schermo. Per dargli una verità no, per dargli dei dubbi. Ecco l'ultima cosa. Il filosofo mette dei dubbi, fa delle domande, dubita continuamente, mette in questione, però attenzione non è il complottista che vi dice no, no, guardate così non va bene, ho io la teoria, no, la terra non è così, è piatta, perché io lo so. Non è questa roba qui. Ha dei dubbi, ma siccome non ha la verità, non può che condividerli. Perché? Perché a me servono altri punti di vista per arricchire il mio. Se io metto in discussione qualcosa, il mio punto di vista conta, ma io ho bisogno di sapere anche cosa ne sanno gli altri, se voglio una visione più articolata. Io posso girarmi per vedere alle mie spalle, ma posso anche sperare che ci sia qualcuno che mi copra le spalle. cioè che guardi per me insieme a me. La filosofia torna giù perché ha bisogno di una visione plurale, ampia. E sa che più sono gli sguardi, più la possibilità di avvicinarsi a quella cosa complessa che è la verità saranno maggiori. O ancora, più sono gli sguardi e più sono diversi, tanto più noi ci avviciniamo. Di nuovo qui il bisogno di sguardi che non ne sappiano niente della filosofia per vedere qualcosa di più. Io ad esempio ho un padre che ha fatto semplicemente le medie, non ha nessuna formazione, ha fatto l'operaio, parlo con lui moltissimo, mi dà un punto di vista diverso. Attenzione perché non confondiamo il sapere e le capacità mentali con la cultura, la cultura è importantissima, ma la filosofia non fa distinzione da questo punto di vista. Parlo solo con chi ha un dottorato, un master di terzo livello di filosofia, il resto non mi interessa perché non possono capire, quella è un'idiozia assoluta. Filosofia, Socrate andava per strada nel mercato chiunque incontrasse e un altro filosofo diceva non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi per filosofare. Quindi la filosofia è ritorno in caverna, apertura a 360 gradi e interessato allo sguardo di chiunque, all'errore di chiunque, perché da quell'errore lì, da quello sguardo può arrivare qualcosa di imprevisto, un pezzo di verità che io filosofo allenato non avevo visto. Torno sulle arti marziali, non so se avete mai sentito perché è un eroe delle arti marziali di tanti anni fa che si chiamava Bruce Lee, avete mai sentito? Qualcuno l'ha sentito? Benissimo, film vecchi, un personaggio però importantissimo nella storia culturale delle arti marziali. Diceva che era importantissimo allenarsi con chi non sa combattere nelle arti marziali perché? Perché fa qualcosa a cui non sono abituato, reagisce in modo diverso. Se io mi alleno con uno sparring che conosco bene, so che farà quei calci, lui sa come faccio i calci, eccetera, eccetera, ma se mi alleno con uno che non conosco, che non è abituato a fare calci, eccetera, può insegnarmi qualche cosa. E quindi, di nuovo, filosofia non per chi fa filosofia, ma filosofia con chi non ne sa nulla di filosofia. Apertura a 360 gradi, a disposizione, a patto che, dicevamo, abbia la voglia di faticare, di mettersi in gioco. Come va a finire Platone? Diciamo così che un buon pareggio rispetto all'Atene della sua epoca. A un certo punto prova anche a portare questa filosofia davvero, rientra in un'altra città, viene in Sicilia, a Siracusa, le cose gli vanno male, deve scappare, viene addirittura venduto come schiavo, quindi, una vita con non poche difficoltà, ma la sua scuola va avanti, viene lasciata agli allievi, diventa quella che Cicerone chiamerà la più bella palestra del mondo, perché è davvero lo spazio di un allenamento di sapere che passerà nella Roma Antica, passerà poi attraverso tutto il Medioevo, arriverà nel Rinascimento, verrà ripreso, avrà un'enorme influenza nello sviluppo della cultura europea durante il Romanticismo e arriva fino a noi oggi e cosa ci lascia? Ci lascia quel messaggio lì, sei disposto a faticare per essere, o sei disposto a faticare per essere migliore il più possibile, per essere qualcuno che ascolta il proprio Daimon, eccetera? la proposta della filosofia è banale e semplice ed è a partire da quella proposta lì che io appunto mentre imparavo a fare windsurf mi innamorai pur capendo poco e nulla, non avevano fatto filosofia, di Platone quando aveva appunto sedici anni. A questo punto vorrei lasciare un po' la parola a voi, abbiamo un po' un po' di tempo se ci sono domande, curiosità, tirare fuori le cose, a partire da quella cosa che abbiamo detto prima, non fatevi problema a parlare, intervenire, a raccontare qualcosa perché fa parte di quella dimensione di dialogo. Siamo nella caverna, siamo davanti allo schermo, massima libertà, se da parte vostra naturalmente c'è l'interesse o la voglia. naturalmente questa è la parte più difficile ma adesso aspetto che vada qualcuno prima di me. Prego prof. Allora, questa è una domanda non da poco perché una delle accuse che è stata fatta alla filosofia è benissimo dubbi, domande, critica, crine, indivisione, eccetera, ma questo può essere meramente distruttivo, non costruttivo, non arrivo ad elaborare qualche cosa, non arrivo a dare delle risposte, non arrivo a dare una qualche verità. È evidente che c'è una parte della filosofia che è stata anche questo. Platone, proprio ad Atene, combatte con questa filosofia. Non c'era solo lui, c'erano altri filosofi che lui in realtà non riconosceva come filosofi ma neanche loro si presentavano così che si chiamavano sofisti. I sofisti erano persone preparate, preparate a livello intellettuale, spesso preparate anche a livello fisico e ci sono dei dialoghi di Platone dove ce li presenta davvero come degli atleti nell'anima e nel corpo molto preparati e quindi potevano sembrare dei filosofi. In realtà erano solo diciamo il doppio del filosofo, una sorta di caricatura del filosofo perché erano disposti a criticare tutto sotto pagamento, mettere in discussione tutto da un punto di vista, da un altro punto di vista senza preoccuparsi di cosa? Di quella questione a partire da cui si muove che vi ho nominato prima, Platone, prima ancora Socrate, cioè il tema di uno spazio di una società più giusta, più aperta, in cui ci sia più spazio per più punti di vista. Ecco, se si perde questo punto di riferimento che è quello che quando tornate all'interno della caverna, non mi serve solo criticare, ma disarticolare un discorso che sia monolitico per dare più spazio alla pluralità, ebbene la filosofia può diventare un discorso autoreferenziale, una critica meramente distruttiva, egoriferita, egocentrica, e in parte nella storia della filosofia abbiamo anche questo. La domanda può anche tramutarsi in ma a cosa serve allora la filosofia? Ditemi praticamente a cosa serve. C'è un filosofo del Novecento che ha dato una bella risposta e diceva la filosofia non serve a niente, la ripresa da Aristotele, nel senso che non è asservita e non serve nessuno, cioè non è al servizio di nessun sapere e nessun potere. Se la filosofia si mette al servizio di un partito politico, di un governo, non funziona più bene. La filosofia deve rivendicare il proprio spazio di libertà, anche a rischio dell'errore, e i filosofi hanno fatto un sacco di errori. Abbiamo ora, non posso aprire il discorso, ma abbiamo filosofi del Novecento che hanno fatto degli errori politici molto grossi, e tuttavia il punto è mantenere una distanza critica che non sia autoreferenziale, che mantenga l'idea di giustizia come spazio di apertura, uno spazio che sia il più inclusivo possibile, in cui io riconosco anche il punto di vista distante dell'altro, a meno che questo punto di vista non voglia imporsi come unico e far fuori tutti gli altri. Questo è un discrimine, a mio avviso, naturalmente. Quando dico a mio avviso dico che oggi voi avete sentito una voce, che non si presenta come verità, ma come una voce di quelle possibili che ritornano nella caverna. Il punto è non cercare la voce che dica la verità, ma una voce che sia, diciamo così, ospitale il più possibile alla polifonia, cioè ad altre voci. Una voce che non lascia spazio ad altre voci non suona bene. Per il greco questo significa che non è armoniosa. Ve l'avevo parlato prima al movimento armonico. Un'armonia per il greco è la composizione di alcuni accordi. Gli accordi non sono uguali. Se qualcuno di voi suona non è che l'accordo è fatto di note uguali, l'accordo è fatto di note differenti. Il punto è quella differenza se funziona insieme o se non funziona. Di nuovo, nella danza Platone dice approvo la danza buona e bella, quella armonica, del movimento buono, del movimento che ha una sua bellezza, eccetera. Non mi piace la danza, ad esempio, Dionisiaca, Platone non la ama. È il movimento della distruttività sfrenata, del tutto, che può portare anche alla distruzione della città. Platone non è per la distruzione della città. Platone è per la trasformazione della città, per renderla più aperta e plurale, perché se si ripresentasse un altro Socrate abbia la possibilità di parlare, di esprimere il suo punto di vista e non essere ucciso. L'idea della giustizia a lui gli viene da lì. Che cos'è l'ingiustizia? È la soppressione del punto di vista diverso. La città non ha tollerato che ci fosse uno che avesse un punto di vista diverso. Attenzione, perché questo funziona finché i punti di vista diversi sono accettabili per noi. Diverso fino a un certo punto. Appena il punto di vista diverso diventa qualche cosa per noi di davvero fastidioso, troviamo tutti gli alibi possibili per metterlo fuori gioco. Però il punto e lo sforzo è lì, altrimenti non c'è nessuno sforzo, nessuna etica nell'accettare i punti di vista diversi con cui siamo d'accordo. È il punto di vista altro. È evidente che io non accetto se quel punto di vista vuole imporsi come unico. Ma se chiede di essere ascoltato nello spazio pubblico ed è radicalmente diverso, anche se io sono in disaccordo totale, gli devo lasciare la parola, la possibilità della presa di parola. Il che non significa che io riconosco che è buono o che è giusto. Può essere anche un'emerita cavolata. E tuttavia uno spazio plurale è quello che resiste alla possibilità che arrivi anche l'emerita cavolata, che uno abbia anche il diritto di sbagliare o di dirla quella roba lì. E questo naturalmente non è però lo lascio dire, questo innesca reazioni, innesca risposte, innesca la critica, innesca uno spazio pubblico come spazio critico in cui io non cerco di togliere la voce a nessuno, di parlare sopra nessuno, ma di ascoltare, di ribattere, di chiedere di argomentare meglio, eccetera. Quello spazio oggi c'è, pensate se questo in uno spazio dei social può funzionare. in media è quello ha detto una roba tutti addosso, il flame, l'aggressione, tanto più se siamo dietro uno schermo, siamo tutti dei super atleti pronti a prendere a pugni dietro uno schermo. Anche altra cosa dell'assenza dei corpi, in assenza dei corpi la nostra dimensione di presa di parola cambia radicalmente, sviluppa delle dinamiche di aggressività enormi, perché? Perché in qualche modo non sentendo la carne di quello che diciamo, non sentendo la parola incarnata, pensiamo che la parola in fondo sia aerea, non possa ferire, la parola ferisce, crea dei danni enormi ed è potentissima. Non sentirla incarnata, non sentirla risuonare nel nostro corpo quando la pronunciamo, la scriviamo, eccetera, la rende diversa e noi abbiamo una percezione di poter dire quello che vogliamo, di fare quello che vogliamo e non sia grave. In realtà in quello spazio lì, ecco, quello spazio lì è disarmonico, è violento, lascia uscire le parti peggiori di noi, non il diventare migliore possibile, il regredire la parte peggiore possibile, non esclude nessuno, compreso i filosofi che usano i social, compreso il sottoscritto, c'è sempre una necessità di essere attentissimi a quello che facciamo, perché basta un momento di disattenzione, di lasciarsi fare dall'esterno. prendo spunto dalla sua domanda, prof, perché questo non è uno strumento, uno strumento è qualche cosa che noi usiamo, conosciamo alla perfezione come funziona, le sue dinamiche, come è fatto materialmente e io lo uso per ottenere uno scopo, quello è uno strumento, lo strumento è totalmente asservito a me, strumento sono le scarpe per camminare, benissimo, questo qui perché non è uno strumento, non sapete come funziona, siete un ingegnere, non sapete materialmente come funziona, non sapete le dinamiche di scelta, di circolazione, eccetera, che gli algoritmi utilizzano per diffondere la vostra parola, le vostre interazioni, di quello che accade qui non sapete quasi niente, di voi invece qui dentro si sa moltissimo, di me compreso, perché ci sono tantissime informazioni, le dinamiche che scatena qui molto spesso non sono scelte da voi, ma sono determinate da una forma in cui sono incanalate, è evidente che non è che ogni volta che accendo il telefono io faccio la mia riflessione filosofica, eccetera, 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 sul telefono, e tuttavia ci sono non essere dei momenti in cui faccio quello che ti diceva Platone, alzati e girati, cioè prendi consapevolezza della situazione in cui sei, guarda lo spazio, guarda quello che ti stanno facendo fare, fai quella cosa ma se la fai cerca di sapere perché la fai, non ti far dettare semplicemente dall'esterno il tuo modo essere, il tuo modo di apparire, il tuo modo di parlare, il tuo modo di interagire, la filosofia in quello senso è critica a mio avviso in modo positivo, cioè massima consapevolezza di queste cose, non è necessario che la filosofia ve lo spieghi direttamente, però se uno si allena a quella consapevolezza, a quell'abitudine al dubbio, a quell'abitudine al tirarsi in piedi, girarsi, a quell'abitudine di forza mentale, quel tipo di allenamento, anche se non è prestato per questo, funziona quando uno interagisce con queste cose, cioè interagisce con una forma di potere, quindi questo non è uno strumento perché è una forma materiale, simbolica, molto raffinata, molto complessa di potere, con cui voi interagite, il punto è di nuovo, nella vita se io voglio fare così, perché così avviene, perché così fanno tutti, perché tanto mi viene comodo, perché mi piace, eccetera, fino a che non finisco in qualche problema qui dentro, oppure se io voglio esserci, anche in quello spazio lì, ma con la massima consapevolezza, con la massima libertà, con la massima capacità di riconoscere gli altri, con la massima capacità di pensare che possa essere uno spazio aperto, oppure non esserci più, perché penso che non sia uno spazio adeguato, eccetera. Sono tutte scelte di cui con cui vi dovete confrontare, ci dovremo confrontare, tra un po' ci dovremo confrontare con il metaverso, perché il proprietario di Facebook ha deciso che ci sarà il metaverso, perché produce una marea di soldi, perché produrrà una nuova articolazione di potere, eccetera. E ci sarà già chi non aspetta altro il metaverso, entrare nel metaverso e saremo tutti nel metaverso, eccetera. Sarà possibile stare fuori da quella cosa? Non lo so. Non lo so. Il punto è come ci stiamo. come diciamo di abitare gli spazi. Se da schiavi incatenati a terra con gli occhi fissi sullo schermo o da uomini liberi e donne libere che si sanno alzare, che si sanno girare, che sanno uscire, che sanno rientrare, eccetera. Questo, secondo me, è una criticità attiva che può avere la filosofia senza avere certezza, altrimenti si trasforma in altro, si trasforma in una religione, si trasforma in un atto di fede, eccetera, e si trasforma in qualcosa che, a mio avviso, a mio avviso, non dovrebbe essere. Sette minuti per la domanda del secolo. La faccio io. Voi di Platone avevate mai sentito parlare? No. Qualcuno sì, qualcuno no, eccetera. Prego. Ti posso chiedere di alzarti, così ti vediamo e ti sentiamo meglio. Tanto per non mettere a disagio nessuno. Perfetto. Ottima domanda sulla questione dell'apprendimento. a cosa serve? Retorica. Io apprendo da chi è più bravo. Allora, da chi è più bravo sicuramente apprendo. Mi misuro con quelli più bravi. Io c'è un ragazzo di 34 anni con cui combatto sempre, sperdo sistematicamente, mi faccio male sistematicamente, apprendo moltissimo nella lotta a terra con lui. Benissimo. È una cintura nera con cui combatto. quel signore lì che citavi che era tal Bruce Lee ha detto una cosa secondo me invece interessante. Prova a sostenere la mia tesi. Chi è più bravo di me conosce benissimo le tecniche che io devo apprendere e che io non maneggio ancora bene. C'è un punto però che qualcuno magari non solo non è bravo, non ne sa quasi niente di queste tecniche. Se lo metto a combattere quello lì qualcosa dovrà fare. Io che non sono bravo, da quello più bravo apprendo benissimo a maneggiare quelle tecniche. Però io so che tecniche sono. Lui sa che tecniche sono e ci muoviamo in un orizzonte di tecniche che condividiamo. So cosa aspettarmi, poi non riesco a difendermi bene, la fa troppo veloce, la fa bene, eccetera, ma io so cosa aspettarmi. Se arriva qualcuno che non ha mai combattuto e si mette a combattere, io non so che diavolo aspettarmi. Magari mi prende per i capelli, invece nessuno perché è una cosa considerata strana. Magari mi prende in una presa che non è una presa tecnica ma in quel momento funziona e io non mi aspettavo perché so che se sono a terra mi può fare una presa qui, me la può fare qui, ma qui non conosco prese da farmi e magari funziona. Allora lì arriva l'inatteso, l'imprevisto. Qualcosa che dal punto di vista tecnico può essere un errore, ma io mi alleno anche su quella roba lì. Da chi non fa filosofia mi arrivano delle domande, come dice lei, che magari non sono domande, un'osservazione, eccetera, ma imprevista. Se io invece dialogo con chi è filosofia io posso sapere dopo questo discorso che tipo di domande mi arrivano. Mi fanno certe domande sull'interpretazione del mito, eccetera, perché condividiamo un orizzonte di sapere. Però è interessante non muoversi solo con quelli o con quelle con cui condividiamo un orizzonte di sapere. Perché è proprio da quell'esterno lì, da qualcosa che non sembra centrare niente, che arriva la vera innovazione. Spesso nell'arte, nello sport, eccetera, arriva così. C'è stato, avete mai visto il salto in alto, no? Saltano tutti di schiena, ormai li vedete così. Per tanti anni il salto in alto in passato non si saltava di schiena, nessuno saltava di schiena. Saltava con le gambe, di petto, eccetera. Poi arriva uno che non è che maneggiasse benissimo quella tecnica e si inventa di saltare di schiena. All'inizio lo prendono come pazzo. Oggi un pazzo è chi non saltasse con le gambe, eccetera. Cioè è interessante che gli spazi di sapere si innovano perché arriva a un certo punto qualcuno che produce qualcosa che quello spazio non riesce a accettare, non capisce nemmeno bene. Misurarsi con questi punti di vista radicalmente diversi. A volte serve solo a rafforzare bene il tuo sapere. Arriva questa cosa strana, è utile perché io rafforzo una debolezza che non avevo visto, eccetera. Oppure può mandarmi in crisi quel sistema e aprirmene un altro. Quindi talvolta invece può non servire assolutamente a niente. È semplicemente uno impacciato con cui combatto che in tre secondi faccio battere. Sempre rimanendo su quella roba lì, su quella metafora lì, perché secondo me è utile, poi è quella che vivo io molto allenandomi. Ad esempio, uno si allena per anni nelle altre arti marziali, è bravissimo, sa fare calci girati, fa fare il 360, cioè due voli, incontra per strada un'aggressione e busca. Questo succede. Perché? Perché lui è abituato a combattere in palestra, in uno spazio abbastanza rilassato, con le luci accese ad un certo punto, con uno che è davanti, che gli fa il saluto, che si trova per strada, ha le cuffie, una situazione di luminosità, viene aggredito, botta di adrenalina, ti blocchi, ti rigidisci, la tua vista con l'adrenalina si riduce, la tua capacità di maneggiare si riduce e non sei in grado di difenderti. Gli allenamenti sotto stress, infatti, sono cosa differente da un allenamento normale. Quindi, la questione dell'imprevisto in tutti i campi è una questione molto interessante per apprendersi, cioè misurarsi con chi non ne sa niente di quel campo e tuttavia ha una potenza di sapere. Ecco la cosa interessante, cioè la filosofia fatta con il fuori, perché dal fuori possono venire cose interessantissime. Un filosofo che parla solamente con i filosofi o con quelli del suo dipartimento di filosofia o con quelli che insegnano nell'accademia è una roba autoreferenziale, circolare, che rimane lì, muore lì, bellissima, non ha nessun effetto. Invece, sporsi a questa questione qui, a mio avviso, è importante. Come chi studia danza che si misura con cose che magari non sono del proprio stile. Per ritornare a un luogo di grandissima formazione, il talent che citavate prima, amici, le grandi diatribe sono io sono esperto di quel campo lì, perché mi vuoi far fare la danza classica dove io non sono bravo, eccetera, eccetera, perché mi devo misurare con quella roba lì di cui non me ne frega niente, perché io voglio fare danza moderna, perché ti può servire, perché può darti qualcosa per inventare qualche cosa di nuovo. Quindi anche lì uscire dalla zona di comfort può essere interessante. Quindi io posso imparare molto da chi ne sa molto meno di me. Certo che non mi confronto solo con questo, devi confrontarmi con l'eccellenza, ma mai snobbare la domanda, il suggerimento, la parola, la presa di parola dell'ultima delle persone che non considereresti perché figurati cosa puoi insegnarmi io che insegno all'università, io che ho fatto il dottorato di filosofia. No. Non è una questione di retorica dell'umiltà, perché il sapere è una cosa importantissima, perché c'è un'altra cosa contemporanea che va molto. Io so, io non ho fatto niente, ma so. Non sono laureato in medicina, però a mio avviso vorrei dire che io ti ascolto benissimo e tu puoi avere la tua opinione. Il punto è se puoi dire che quella tua roba lì ha lo stesso valore. No, non sto dicendo questo. La presa di parola non tutte hanno lo stesso valore, sarebbe stupido dirlo. Non a caso faccio io qui oggi la lezione, non voi. E sarebbe retorica stupida dire no io adesso non faccio lezione e lascio la parola a lei e lei fa la lezione qui, perché io imparerò tantissimo. Sicuramente qualcosa imparo, però non sarebbe funzionale, non è corretto, ci sono degli spazi, ci sono le gerarchie, ci sono le cinture nelle arti marziali, io non insegno niente al mio maestro da quel punto di vista, perché i calci exaltati li faranno meglio di me e tuttavia combatto con lui e lui si allena anche e combatte con me. Perché? Perché può imparare che gli arriva un calcio fatto male ma che funziona molto bene perché lui non è preparato a prenderselo. Quindi nessuna retorica del tutti siamo uguali, sei studiato o non hai studiato va bene, no, fatica, allenati il più possibile, studia il più possibile perché quella roba lì fa la differenza. Al contempo non pensare che quella roba lì sia la tua zona di comfort che ti rende sicuro perché assolutamente non è così, hai moltissimo da imparare dal fuori, dall'esterno. Come l'arte pittorica del Novecento che a un certo punto pensate a Picasso ma pensate anche ad altri si interessa all'arte africana che non era considerata neanche arte e nelle Demoiselle da Vignon Picasso a un certo punto su una bellissima donna mette una faccia che sembra una maschera africana. C'è il fuori che viene a contaminare un orizzonte di sapere che è una tradizione enorme che ha il rinascimento che ha i pittori più grandi perché Picasso deve andarsi a prendere la maschera africana come dire roba da primitivi. No, lì c'è qualcosa che arriva può contaminare la mia arte e può innovarla perché a un certo punto se no diventa autoreferenziale l'estantia. Grazie per la tua domanda. Sono le 11.03 vi siete guadagnati la libertà dalla caverna se non ci sono domande se no per me possiamo stare qui fino a che non prendo il treno. Prof. Su quello deve essere a mio avviso molto decisa molto netta abbiamo parlato diciamo così del lato positivo ci sono spazi in cui la filosofia ha il dovere di essere fermissima contro tutte quelle forme che sono forme di sapere per quanto rozzo che prevedono di escludere l'altro di fare violenza all'altro di non tollerare l'altro perché è diverso eccetera la filosofia non può stare a guardare proprio perché ha quella dimensione di conflitto lottatoria ha la responsabilità di intervenire di usare i metodi che le permettano di entrare anche in conflitto con chi propugna una visione di quel tipo non è accettabile per una filosofia che è davvero l'apertura alla diversità e non solo la tolleranza è un concetto molto interessante è un concetto ad esempio Locke è un grande filosofo della tolleranza io penso che insieme alla tolleranza vado ad aggiunto il riconoscimento cioè la tolleranza è tu è una visione diversa alla mia io la accetto la tollero la lascio lì però a me interessa di più il riconoscimento cioè io vado a scavare per riconoscere la tua persona e dargli la pari dignità in quello spazio se però c'è qualcuno che in questo spazio fa diciamo il bullo filosofico l'intolleranza eccetera non è qualcuno a cui io posso semplicemente dire non si fa così eccetera io sono tra quelli che penso che una delle responsabilità sia intervenire in maniera molto netta di contrasto il più possibile contro queste dinamiche per tradurla nei termini del mio maestro di arti marziali i bulli vanno sbullonati non si può accettare questo non si può far finta di niente non fatelo mai non fatelo mai di fronte a prese di parola che anche vedete da parte di altri che sono sicuramente magari non contro di voi ma contro quello che è più debole cercano la vostra complicità e hanno bisogno della vostra complicità l'intolleranza non funziona se non ha la complicità di qualcuno e questo che la filosofia se vi rendete complici anche se non siete voi la guzzino ma la guzzino ha bisogno di complicità in tutti i campi essere a tutti i livelli il punto è se io mi voglio rendere complice o meno anche se non rendermi complice mi metto in una posizione a volte di difficoltà ecco ecco filosoficamente se ci sono dei doveri sì c'è quello io non posso essere complice di questo di prefaricazione di gente che toglie la parola a qualcun altro di gente che delegittima la parola di qualcun altro perché è socialmente culturalmente etnicamente eccetera da qualcuno svalutata la parola di chi non dovrebbe avere voce no noi dobbiamo batterci perché tutti possono avere voce che si tratti del bambino di seconda elementare con cui faccio filosofia che si tratti di un immigrato che arriva di un altro paese non articola neanche bene il mio linguaggio l'altro deve avere voce io devo battermi perché l'altro abbia voce perché perché rende lo spazio più giusto più aperto perché può far avvenire delle cose che io non potevo neanche prevedere può accadere anche qualcosa di negativo sì sì l'apertura è sempre buona mi arricchirà sempre no arriverà la volta l'apertura vuol dire che arriva la sberla che arriva il trauma è evidente che c'è un certo rischio nell'esporsi nel lasciare a tutti la presa di parola implica una certa forza una responsabilità un certo coraggio perché chiudo su questa c'era una sola virtù che per Platone in tutto questo aveva valore ed era quella la rete del coraggio l'Andrea il coraggio non è avere paura ma diceva ma restare saldi nella paura rispetto a una decisione presa rispetto a una posizione presa quindi rispetto all'intolleranza ecco non ci può essere complicità in questo assenso silenzio mi giro dall'altra parte prego ma quindi in piedi in piedi ma quindi in tutto ciò la curiosità di studia abbiamo parlato del del teatore del del carattore domandona di quelle se io ho detto un po' come la pensa Platone ma perché ogni filosofo si è posto questa domanda e ha dato la sua risposta rispetto ad altri tipi di sapere la filosofia non è mai definita a priori lavora sempre sulla propria definizione essendo davvero un sapere che si costruisce attorno a chi lo fa ed essendo un sapere aperto anche a chi non ne sa niente neanche usa la parola la filosofia molto difficile definirla in questo senso a me piace molto la formula platonica allenati a essere migliore il più possibile in un orizzonte di giustizia molto vaga però molto aperta in grado di mettere dentro i contenuti è evidente che uno la può arricchire può citare Kant può citare Hegel può citare Nietzsche e troverete ogni volta una definizione diversa della filosofia io ve ne ho dato un aspetto in due ore la filosofia è anche occuparsi del mondo del cosmo della nostra posizione dei valori ultimi di Dio eccetera trovate tutto questo non trovate una definizione perché l'avete ne sono state date tantissime però la questione che a me piace di questa dell'allenamento è dell'essere migliore il più possibile in un orizzonte di giustizia che lavora sulla libertà su virtù come il coraggio sull'apertura sulle capacità critiche ecco questa roba qui essere se stessi nel modo migliore possibile nel modo più dignitoso possibile o anche per usare la formula di un filosofo francese essere degni di ciò che ci accade lui la definiva così essere all'altezza di ciò che ci accade degni di ciò che ci accade è un lavoro non da poco però questa cosa qui per me è la filosofia per me prego prego hai avuto una visione qualcosa bene con l'indicazione del mondo iperuragno delle idee del vostro compagno credo che forse possiamo salutarci io vi ringrazio grazie per la vostra attenzione grazie al professore S buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.